Il giorno della disbatta L'8 settembre è la festa della Madonna Una festa della Madonna Manifesta e protesta la folla Contro l'Italia che affonda Ma in pista ma non decolla Le mani in pasta invischiate Come dentro la colla Questa è l'ennesima balla Ma ormai non state più a galla Qui con la piccola barca Perché lo scappa una falla Ormai non c'è più rimedio Serve un pacifico assedio Questo è un invito Alzate tutti il dito medio Onorevole e onorevole Questo velti sono levole Onorevole e onorevole E' davvero disdicione Al di te Ci sei o non ci sei Questa è la nuova evoluzione E' la rivoluzione Al di te Ci sei o non ci sei Al di te Ci sei o non ci sei Serve una nuova soluzione C'è troppa corruzione Capisci che è umano sbagliare Però se puoi rimediare Non puoi guidare l'Italia Te ne devi andare Ma non sai più rinunciare Non ti sei più abituare Chi fa politica In fondo è perché ama il potere Prima sei stato indagato Sei stato incriminato Qualcuno ti ha giudicato Sei stato condannato Voi siete uno su cinque Noi siamo più di un milione Guarda la piazza Guarda quante persone Onorevole, onorevole Questo è il bisogno del monete Onorevole, onorevole E' davvero del monete Di te Di te Come Al di te Ci sei o non ci sei Questa è la nuova evoluzione E' la rivoluzione Al di te Ci sei o non ci sei Al di te Ci sei o non ci sei Serve una nuova soluzione Saltiamo la nazione E' la rivoluzione E' la rivoluzione Senti, ci sei Baffanculo day Baffanculo day Qui si parla In Italia si parla Ma non cambiamo mai Vengo da Roma Con la voce La chitarra Ed un dj Per cantare L'inno nazionale Al di te Ci sei o non ci sei Questa è la nuova evoluzione E' la rivoluzione Al di te Ci sei o non ci sei Al di te Ci sei o non ci sei Serve una nuova soluzione C'è troppa corruzione Al di te Ci sei o non ci sei E' la rivoluzione E' la rivoluzione Ciao Leo Grazie di tutto quello che hai fatto Grazie Leo Boli Cosa abbiamo fatto Cosa abbiamo fatto Io Io Non so Allora vi do questa notizia Questa manifestazione avviene in 220 città contemporaneamente Poi ci collegheremo Ci collegheremo Voglio dirvi questo Ancora prima di aprire i banchetti per le firme Che abbiamo bisogno di 50.000 firme per fare questa legge popolare Sono state raccolte ancora prima di aprire i banchetti 200.000 firme Sono cose indescrivibili Ai banchetti Firmava Firmavano di nascosto quelli della Digos Firmavano anche i cani lupo Signori Quelli delle scorte Dei parlamentari inquisiti Hanno dichiarato a Milano e a Torino Che si sono rotti i coglioni Io Non so cosa Non so cosa Gli occhia si perdo tutto Io Voglio solo dirvi Perché abbiamo fatto questa Come nasce questa manifestazione L'8 di settembre Perché l'8 di settembre Perché l'8 di settembre È stato il giorno della disfatta degli italiani 8 settembre 1943 Quando i Savoia Hanno lasciato Il popolo italiano allo sbando E da quella data lì Non è cambiato niente Gli italiani Gli italiani Dobbiamo ridere Non dobbiamo incazzarci Dobbiamo ridere Dobbiamo ridere Dobbiamo dentro È una grandissima soddisfazione Questo 8 settembre Perché finalmente Questa gente che è in Parlamento Che non rappresenta più nessuno Perché non è Non sono stati eletti Da nessuno Italiani Dovremo Dovremo riportare le cose Al loro senso naturale Quando parliamo di abusivi Naturalmente pensiamo ai lavavetri Ai posseccatori E alle puttane Mentre i veri abusivi Sono nel nostro Parlamento Ora Ora ve li elenco Ora ve li elenco Uno per uno Berruti Massimo Maria No, sono 25 Stiamo qua fino a stasera Se poi ci metto i prescritti Due giorni Quando sono a mano invitato A parlare al Parlamento Europeo Un comico Non è mai successo Sono andato lì E c'erano I parlamentari svedesi Olandesi Che mi guardavano così C'era una giornalista inglese Dell'Eral Tribun Il più prestigioso giornale del mondo Dell'Eral Tribun Che è stato l'unico giornale A pubblicare Tre anni fa La lista dei condannati Mi ha chiesto Come va in Italia Gli avete mandati via I 25 condannati E io ho risposto Ne è andato via uno Previti Ma se andate avanti così In 200 anni Ce la fate Bene Signori Bruno Berruti Maria Massimo Maria Forza Italia Favoreggiamento Biondi Alfredo Forza Italia Evasione fiscale Reato poi Depenalizzato Bonsignore Vito Corruzione È uno Che dato che è una corruzione Fatta bene L'hanno messo nella commissione antimafia È bellissimo Borghezio Mario Il reato è incendio aggravato Ha visto due accattoni Gli ha dato fuoco Mi è scappato il fiammifero Bossi Umberto Col tricolore Mi ci pulirò il culo Ve lo ricordate Berlusconi Dieci domande Berlusconi mafioso Ve lo ricordate Sul suo giornale Cosa diceva E adesso Nella sua villa Con le braghe di Gabardi In canottiera Bene Bossi Umberto Finanziamento illecito E istigazione a delinquere Cantoni Giampiero Forza Italia Corruzione e bancarotta Carra Enzo Margherita Falsa testimonianza Cirino Pomicino Cirino Pomicino Corruzione e finanziamento illecito Anche lui È stato promosso Alla commissione antimafia Un giorno mi chiamò Fermi Un giorno mi chiamò Mi scrisse una lettera Io lo chiamai Perché è uno psichiatra Completamente fuori E mi disse Signor Grillo Lei fa una confusione totale Lei confonde La giustizia Con la politica Ho detto Vai a fanculo De Angelis Marcello Banda armata Associazione sovversiva An Delia Sergio Rosa nel pugno Banda armata E concorso in omicidio Sono sottosegretari al Parlamento Delutri Marcello Delutri Marcello Delutri Marcello False fatture Falso in bilancio E frode fiscale Del Pennino Antonio Finanziamento illecito Forza Italia De Michelis Gianni Ancora lui È vivo Lo capite Pavarotti muore E questo qui è vivo Porca puttana Neanche Dio È più democratico Farina Farina Daniele Partito di Fondazione Comunista Fabbricazione Detenzione Porto abusivo Di ordini esplosivi Andava in giro Andava in giro Con due candelotti Ha detto Ma cosa fa? Resistenza pubblico ufficiale Lesioni personali gravi E in osservanza Degli ordini Delle autorità Iannuzzi Lino Forza Italia Diffamazione aggravata La Malfa Giorgio Forza Italia Finanziamento illecito Maroni Roberto Lega Nord Resistenza pubblico ufficiale Non hanno Signori Per cortesia Non sono più nessuno Queste persone qui Calmatevi Non dovete neanche più fischiare Non dovete neanche più fischiare Mauro Giovanni Forza Italia Diffamazione aggravata Nania Domenico Aenne Lesioni volontarie personali Petroiello Aldo Udc Finanziamento illecito Previti Cesare Ma no Ormai Depennato Poverino Mi fa anche pena Ha corrotto un giudice Per conto Dello psiconano E ci ha rimesso Lui E lo psiconano E' ancora lì Sterpa Egidio Forza Italia Finanziamento illecito Tomasini Antonio Atto pubblico Falso in alto pubblico Visco Vincenzo Muse di Lizio Una pocosina così Poco Dobbiamo dargli tempo Che combini qualche casino Vito Alfredo Forza Italia Corruzione Che è diciamo Nella commissione antimafia Vito Alfredo Signori Quello che voglio dirvi Quello che voglio dirvi Che è questo Questo è un successo Straordinario Dobbiamo riportare La politica Verso i cittadini La politica La dobbiamo fare noi Noi Tutti i giorni Un pochino Sempre di più Tutti i giorni Quando facciamo la spesa Quando andiamo in autobus Quando siamo fermi Ai semafori Quando andiamo a scuola Siamo noi Che facciamo la politica Bene Hanno affossato Hanno buttato Nel cesso Un referendum Nel 92 Nel cesso Buttato Allora Allora Questo movimento qua In 200 città In 30 città 30 città estere Da New York Ci collegheremo Da Dublino Da Tokyo Londra Parigi Gli italiani All'estero Che prendono Le firme Ce le mandano Perché sono stanchi Di vergognarsi Di essere italiani E Valium Valium Che abita qui Dicono Che abita qui Valium L'hanno L'hanno visto Abita qui L'hanno visto Allontanarsi E' nato a Bologna Io non lo so Perché sto chiedendo Ma scusate Prodi E' nato a Bologna I bolognesi Dicono No 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 A Reggio Emilia Dove Si avvicinano Leggermente Ai politici Io non glielo consiglio Non glielo consiglio Perché quando un politico Che dovrebbe rappresentare I cittadini Entra in una macchina blindata Va nel suo ufficio Antiproiettile Entra in Parlamento Vuol dire Che è scattato Qualche cosa Vuol dire Che ha paura Dei suoi cittadini Italiani E adesso E adesso Si sfogano Adesso si preoccupano Della sicurezza E confondono La sicurezza Con la legalità La percezione Della sicurezza E allora ecco Che Amato Si sveglia E dice Che se la sinistra Non ha una svolta Sulla sicurezza Immediata Sui cittadini Ci sarà Una sterzata Fascista Amato Questo nano Amato Vorrei chiederle Vorrei chiedere Ad Amato Dov'eri Omino Omino Dov'eri Quando facevi Il cassiere Del partito socialista E parlavi Di legalità Dov'eri Dov'eri Quando eri Presidente Dell'antitrust Forse Eri all'università A studiare Platone E intanto Ti sfuggiva Di mano Il caso Parmalat Il caso Telecom I bond Argentini Vaffanculo Una svolta Una svolta fascista Quale svolta fascista L'unica svolta Che bisogna fare E prenderli a calci Nel culo Porca di una puttana Dov'eri Dov'eri Amato Dov'eri Amato L'anno scorso Quando con l'indulto Sono usciti 26.210 Pregiudicati Porca puttana Dove sono Quanti omicidi Quante rapine Quanti furti Hanno fatto Chi li paga I danni Chi li paga I danni Il figlio Il figlio Il figlio Dei due coniugi Stuprati Cazzo da questi Albanesi Stuprati In casa Vicino a Treviso Dovrebbe essere qui O in contatto Telefonico Ci parleremo Stasera Chi paga I suoi danni Mastella Si dovrà vendere Mastella I suoi 26 vani Presi in centro A metà prezzo Vaffanculo Mastella Mi fa impazzire Mastella Mi fa impazzire Io non ci credo ancora Che questo equivoco Possa rappresentare Una delle cariche Così importanti Dello Stato Mastella Ha aperto un blog Ha aperto un blog Tutte le volte Legge il mio Poi vuol darmi Una risposta A me Dialoga con un comico Un ministro di grazia E giustizia Che dialoga con un comico Ma ve li immaginate voi Brown In Inghilterra Che parla con Mr. Bean Ma va Vaffanculo E allora E allora abbiamo già raccolto Abbiamo fatto questa legge Sono andato in Cassazione Io a depositarla A luglio L'ho portata in Cassazione E mentre Mentre l'ho portata Un po' d'acqua Un po' d'acqua per favore Un po' d'acqua E mentre l'ho portata lì È successa una cosa bellissima Si è avvicinato un signore Con fare molto guardingo e circospetto È venuto lì Pensavo Sarà il solito spacciatore Aprimela Aprimela Grazie No senza No togli l'etichetta Togli l'etichetta Non ti devo dire tutto Togli l'etichetta Toglila Si avvicina questo signore Con fare circospetto Elegantissimo Sarà il solito spacciatore Di crack Invece viene Da me E mi sussurra Nell'orecchio Queste parole Ve lo giuro Sui miei figli Mi dice Con un accento Diciamo di Oxcon E dice Signor Grillo Sono completamente d'accordo Con tutto quello che fa lei E è scappato Ho chiesto Ma chi è questo? Chi è? Sta poco bene Mi dice No È il presidente della Cassazione Ho portato questa legge E questa legge Che dovremo firmare Che dovremo firmare E firmeremo ancora E firmeremo da oggi in poi E firmeremo e daremo il documento È una legge popolare Su tre cose Primo punto Via tutti condannati in via definitiva dal Parlamento Domani mattina Due Anche i prescritti Anche i patteggiati prescritti Due Secondo punto Importantissimo Due legislature Poi a casa Poi a casa Con effetto Retroattivo E poi riesumare Dal cesso Il nostro referendum E tornare E tornare alla preferenza Del proprio candidato Diretto da parte Dei cittadini Io ho scoperto Delle cose Continuo a scoprire Abbiamo un ministro Un ministro Che si chiama Sant'Agata Pensavo fosse Tony Sant'Agata Un cauto autore Invece È un ministro Di che cosa? È un ministro Della Dell'attuazione Ministro Per L'attuazione Del programma Ma che cazzo Di ministero Non basta una segretaria Mandatelo a casa Si chiama Sant'Agata Mi ha scritto Su un giornalaccio Tipo il Corriere Ha scritto Che io sto preparando Un movimento Per creare Un partito Europeo Per le elezioni Del 2009 Ti do questa risposta Io Sant'Agata Da questa piazza Io sono per eliminarle I partiti Non farli Vaffanculo Bene Ma non voglio Abbiamo tanti ospiti Che devono parlare Io credo che qui Siamo di fronte a qualcosa Di veramente straordinario Da oggi in poi Ci guarderanno In un altro modo Io non Non è merito mio Io vorrei ringraziare I 50.000 Gruppo di Meetup Di Bologna Che poi vi presenterò Ragazzi straordinari Che si sono dati da fare Che hanno fatto politica Sul campo Vera Politica contro Gli inceneritori Contro la privatizzazione Dell'acqua Politica per avere Una connettività Da paesi civili Non una connettività Da terzo mondo Quindi Io credo che qua Siamo di fronte A qualche cosa Un serpente Che cambia la muta La stiamo cambiando Da oggi in poi Dovranno Dar conto A noi Ma non a me Io ho solo fatto Da detonatore È la rete Sulla rete Non si mente Sulla rete Non puoi fare Come il ministro Gentiloni Ministro delle telecomunicazioni Che è un blog Che non risponde a nessuno Con 5-6.000 Commenti Da parte dei ragazzi E della gente Per dire Rete 4 Deve andare Sul satellite E al suo posto C'è Europa 7 Che ha vinto Tutte le cause All'alta corte costituzionale Invece Gentiloni Fa un blog Come mio figlio Ciro E scrive Che lui va in vacanza Che si porta dei libri E legge Liala 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 E dice E dice Che lui è È nato vecchio E adesso Da vecchio Si sente giovane Scrive queste cose E dice Che il suo passatempo Preferito Ve lo giuro Sui miei figli Il ministro Delle telecomunicazioni È giocare A tennis Con un certo Ermete Gentiloni Ed ermete Andate Fanculo Bene Ora cominceremo Con i primi ospiti Dovete avere pazienza Questa Signore Io sono convinto Di quello che dico Non è merito mio È merito Di questi ragazzi Della rete Io ho fatto dal detonatore Ve lo ripeto Ma Qui siamo Siamo in una nuova Woodstock Siete Woodstock Ma siete i grani Woodstock Del terzo millennio I drogati E i figli di puttana Sono dall'altra parte Italia Bene E dato che la rete serve A dar voce A chi non ce l'ha A dar voce A chi è solo A dar voce A persone Per non lasciarle sole E qui il mio pensiero Va a un ragazzo Che fa il mio mestiere In un modo più Forse colto Forse è migliore Un grande scrittore Si chiama Roberto Saviano Che vive in clandestinità Bene Io voglio presentarvi Dei ragazzi adesso Dei ragazzi Che arrivano Dalla Calabria Dalla Calabria Che arrivano E hanno 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 Cognato Hanno Cognato Uno slogan E lo slogan E' agghiacciante E lo slogan Si chiama E adesso Ammazzateci tutti Ve li voglio Presentare Venite su Ecco 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 l'antipolitica Eccola qui Mi ha dato un microfono Di qualcosa Tu Sei tu Adesso il protagonista Vai Noi 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 vogliamo far vedere Il bello Che c'è in Italia C'è una grande generazione Perché l'Italia Non è un paese Di mafiosi La Calabria Non è un paese Di mafiosi E' una terra bellissima E noi lo diciamo Con orgoglio Sappiamo che le persone oneste Sono molte di più Oggi in Italia Gli onesti Siamo di più Ci siamo anche purtroppo Rotti le scatole Perché Se è vero che Oggi il Parlamento Conta 25 condannati In via definitiva Purtroppo La politica calabrese Non risponde Non risponde positivamente Allo strapotere Dell'andrangheta Non risponde positivamente Perché Abbiamo Il 33 Anzi Il 63% Di consiglieri Regionali Inquisiti Per reati Che vanno Da truffa Abuso d'ufficio Associazione per delinquere Voto di scambio Stanno lì a rappresentare noi E sono la maggioranza Da una parte E dall'altra Posso dire una cosa Non è vero Che c'è l'andrangheta E non è vero Che non ci sono Le istituzioni In Calabria Le istituzioni Si sono trasformate Come nel terzo episodio Di guerre stellari I buoni Sono diventati cattivi Oggi La mafia Non è più come prima La mafia È stata Corrotta Dall'interno Dalla politica È lo Stato Che è diventato La mafia Ma fa il culo Devi dire ancora qualcosa Un'altra cosa Soltanto È vero Che da una parte C'è la politica Dall'altra Ci sono Dei carabinieri Dei poliziotti Dei magistrati Sottopagati Che muoiono Per strada Magari I magistrati Anche senza L'aria condizionata A fare le indagini D'estate Sui politici Sulla Massoneria deviata Sulle collusioni Col malaffare La mala politica E la mala sanità Però È questa la cosa fondamentale Perché oggi Bologna Così come il saluto Che deve andare A tutte le piazze calabresi Che stanno facendo Quello che facciamo Noi qui Perché oggi Bologna Perché i ragazzi di Locri Sono diventati Ragazzi d'Italia Ci sono ragazzi A Bologna A Venezia A Torino A Milano A Roma Che credono Nella lotta Contro la mafia Per la legalità E per l'etica E sono i ragazzi Che sono qui Bene Basta Grazie a tutti C'è anche Rosanna Che è la figlia Di un giudice Del giudice Scopelliti La sua battaglia La fa in Calabria E noi dobbiamo Delle risposte Perché l'omicidio Forse a Roma Qualcuno Sa qualcosa ancora Un giudice Di Cassazione Che doveva dire Sì o no Alle condanne Che Borsellino E Falcone E Palermo Il Pulto di Palermo Avevano fatta I boss di Cosa Nostra Rosanna è qua Grazie Danilo Dino Jessica Costino Mario Maria Grazie a tutti Manculicani Manculicani Mannaia Santosticchi Apostolo E adesso Ho il piacere L'onore Di presentare Un vostro cittadino Uno che fa il mio lavoro Con passione Con cultura È un tagliando Della mente È una delle persone Più Sì arrivo Sì Sì lo diciamo Sì lo so Devo dire tutto Però arrivi col megafono Io ti dico Tutto quello che vuoi Perché mi fai paura Vi devo presentare Questo personaggio Di Bologna Ed è un personaggio Di una generosità Estrema Una generosità Di quella che non si vede Sui giornali È una delle persone Più generose Che abbiamo conosciuto Bergonzoni Grazie 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 Grillo Ciao Grillo Grazie Grande appuntamento Appunti per un appuntamento Grillo ci ha dato il modo E a me viene il modo Alla gola Bisogna dire Fare Far combaciare Il dire con il fare Firmamento Cioè andate a firmare Andiamo a firmare Testa Senza mento Testa Usare la testa Altrimenti la penitenza La facciamo noi I condannati Siamo noi Se non cambiamo Questa volta Indicare Non è maleducato La sollevazione popolare Grillo diceva Una sollevazione popolare Per vedere cosa c'è dentro Cosa c'è dentro Fanno i duecento all'ora I politici Certi politici Duecento all'ora Sono stato inquisito E allora Sono stato condannato E allora Non me ne andrò mai E allora Sono colluso E allora Non me ne frega niente E allora E allora E velocità questa Vanno fermati Per la velocità Dobbiamo montarci la testa Montarla L'abbiamo sul comodino Va montata A vita A vita Se no non funziona La testa va montata Chi è steso al potere A prendere il sole Ci prende il sole Non voglio il sole Voglio il sole Non chiedo la luna Lo voglio il sole Non ce ne facciamo una ragione Cerchiamo tutte le ragioni Usiamo le furbici Per tagliare Le furbici Per tagliare Gli spenti Abbasso gli spenti Non siamo spenti Noi non andiamo a elica Andiamo a reazione Questa piazza Questa piazza È una reazione Una reazione C'è una monarchia Che ci piace Il suo re È reagire È responsabile Sono i due re Che noi vogliamo Reagire Certe volte Siamo avversari Del cane Ma amici Dell'osso Siamo conniventi Ribelliamoci Tornare al bello Ribello Rivoglio il bello La meteorologia sociale Culturale Antropologica Filosofica Dove siamo arrivati Il problema non è dove siamo arrivati È quando cominciamo Oggi Cominciamo oggi Ora È la cosa importante Dice ma È una forma di violenza La violenza brutta e cattiva Non mi piace Ma siccome c'è quella bella e buona Usiamo la violenza bella e buona Devono dormire preoccupati Dormire preoccupati Non possiamo solo chiedere degli autografi alle persone Dobbiamo anche dire non va Chiediamo a certi giornalisti Che vanno a chiedere A una persona che non è ancora condannata Che cosa ha fatto O al padre di un bambino morto Cosa si prova ad avere un figlio morto Chiediamo a quel giornalista Ad andare da un'altra parte Non lì Questa non è politica È cultura È cultura Chi è stato? Noi siamo stato Chi è stato? Noi siamo stato Loro sono stati? No No Non so Ma loro non sono stato Vanno contestati E lo stato è uno stato pietoso? Non lo so Non lo so Cerchiamo di essere maiuscoli L'uomo deserto L'uomo deserto in sabbia E vende miraggi Non si può Il popolo degli zittiti Non esiste Gli zittiti Non esistono Attenzione ai mesi di distrazione di massa Beppe Grillo ci ha raccontato cose Che potevamo forse sapere prima Ma ci sono i mesi di distrazione di massa Certa televisione Certi reality Certo calcio Certe ore Spese A casseggiare E intanto pensiamo ad altro Meno morbo di Kronik Il morbo della cronaca Meno cronaca Parliamo d'altro A forza di ridere Restano Basta scherzarci sopra Dobbiamo Non starci sotto Il campanello d'allarme Lui l'ha suonato Abbiamo suonato il campanello Possiamo andare su E vedere cosa c'è Suonando il campanello d'allarme Questa è la domanda L'intelligenza e l'onestà Sono una dogana Non passano tutti Scendiamoci in testa Non basta una piastra Ogni giorno Possiamo fare una manifestazione interiore Nella propria testa L'abbiamo un'anima O abbiamo solo un corpo È una domanda È una domanda Siamo feriti dall'illegalità E le bende Ce le mettono sugli occhi Non è lì che vanno le bende Protesta interiore L'altra domanda che mi faccio è È importante vedere Perché Tanzi è arrivato lì La domanda Cosa facciamo Nella scuola Nell'università Perché non si formino Industriali di quel genere Cosa si fa? Questo è il tema Ci abbiamo Sì Chiudo La casa di tolleranza Torniamo a casa Non tolleriamo più Non tolleriamo più Non tolleriamo più I partiti Dei partiti I partiti Dei partiti Grazie 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 Pensare Pensare Alessandro Bergonzoni Grazie Di essere venuto E allora Sembrava che non ci fosse Un'altra Italia Che potesse reagire Pensavo Tanta gente Pensa che non ci siano Persone in grado Di poter fare politica O non fare politica Scusami Poi ne parliamo sicuramente Bene Vedi Me lo fermate Con qualche puntura Quello lì per fare Abbiamo adesso Una persona Una persona Che ce lo invidiano Da tutto il mondo E noi L'abbiamo Abbastanza criticato È un uomo Che dà Il proprio lavoro Ha fatto cose straordinarie Ha creato ospedali Nel mondo Là dove c'era la guerra Lui ha creato Degli ospedali Dovrebbe essere Dovrebbe prendere Un Nobel Ce l'abbiamo In collegamento Telefonico Gino Strada Aderisce Anche lui Ciao Gino Gino Ci sei? Ah sarebbe Bellissimo Se ci fosse Ma passi attraverso La telecom Quindi sparisci Anche tu lì La telecom La telecom Mi viene Che paese strano Questo Quando c'è C'è Mi dici se c'è Che paese strano Che paese strano Che è questo È un paese Veramente strano Perché qualche mese fa Io che faccio il comico Sono andato al consiglio Di amministrazione Dei piccoli azionisti Dei piccoli azionisti Della telecom C'ero io A fare E a combattere Per gli interessi Dei piccoli azionisti Bertinotti Era su un monte In Grecia E sono andato lì Sono andato lì A sputargli in faccia Quello che è Il libero mercato Quello che è La borsa Quello che è La convivenza Oggi La convivenza Aldo Quando è in linea Me lo dici A sputargli in faccia A questa connivenza Di banche Mezzi di informazione Politici E aziende Tutti insieme Sono sempre Le stesse persone Che rovinano Questo paese Sono sempre Le stesse persone E sono andato lì E allora ho fatto Una share action Ho detto Raccolgo le firme E non l'ho abbandonata Questa cosa Adesso c'è l'otto settembre Ma tra un poco Ci sarà la nuova assemblea Della nuova telecom E io sarò là E io ho fatto La share action Attraverso la rete Ho chiesto Ai piccoli azionisti Di darmi la delega Per poterli rappresentare Al consiglio di amministrazione Signori Ho l'onore di dirvi Che io ho preso 175 mila deleghe Di piccoli azionisti E attualmente Sono il maggiore azionista Della telecom Che paese Che paese Ci siamo Bene Neanche un collegamento Con le piazze Milano Bene Allora io chiamerei Sul palco Due persone Straordinarie Perché questa È la festa È una festa Della società civile Di persone Reali Vorrei chiamare qui Un padre E una madre Che hanno avuto Una disavventura Tremenda Si chiamano Aldrovandi Ve la racconteranno loro Mi ha sorpreso La straordinaria calma Di queste persone Che hanno mantenuto La calma E hanno Fatto Hanno fatto cose straordinarie Hanno aperto un blog Hanno informato la gente Dove siete? Ci siete? Venga signora Venga Venga Grazie di essere venuti Vieni Vieni Dagli il microfono Mi dispiace Ma Questo è Dite la vostra In due parole Quello che avete passato Grazie 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 Per questa opportunità Grandissima Che Che per noi È meravigliosa Noi siamo i genitori Noi siamo i genitori Di Federico Aldrovandi Un ragazzo Che ha trascorso L'ultima serata Della sua vita Qui a Bologna Era venuto Ad ascoltare Un concerto Aveva 18 anni Da due mesi Soltanto E purtroppo Al ritorno Mentre tornava Verso casa Dopo che aveva saldo Butato gli amici E nel tratto di strada Che voleva percorrere a piedi Ha incontrato Quattro polizioni Che Che non sappiamo Ancora Per quale motivo L'hanno picchiato Fino a ucciderla Probabilmente Federico Si è trovato nel posto sbagliato Al momento sbagliato La polizia stessa ha detto Che non c'era alcun motivo Di fermarlo Ma forse Un ragazzo Che cammina da solo Per strada Vicino all'alba Era qualcosa di intollerabile E così Ancora Quei poliziotti Non hanno Mai parlato Si sono sempre Rifiutati di rispondere Non hanno parlato Né con noi Tanto meno Non si sono mai Assolutamente Pentiti E non hanno nemmeno Risposto Purtroppo è così Qui abbiamo sentito Parlare di Mala politica Mala sanità Ma quello che ha subito Federico E che noi come famiglia E che Penso tutti i ragazzi del mondo Hanno subito È un caso di mala polizia Possiamo chiamare se vuoi Ci vuol coraggio Venire qua A dire queste cose Sì Mi ero scritta una traccia Ma provisco Forse parlare così Sì sì Si sente Si sente Ma qui solo affetto hai Solo del grande affetto Beh io sono qui per dire Che purtroppo Il mondo che abbiamo Incontrato Attraverso La tragedia di Federico Va molto oltre La peggiore immaginazione Cioè le persone Che dovrebbero Difenderci Tutelarci Oppure difendere I più deboli I ragazzi In realtà Hanno ucciso Federico Sappiamo che lo fanno Con molte altre persone Che non possono difendersi E di cui forse Non sapremo mai nulla È terribile però anche Che i superiori Di questi agenti Che si sono comportati In questo modo Delinguenziale Sono assassini Infatti vi ricordo Il 19 ottobre Comincia il processo In cui sono imputati Di omicidio Ma quello che Si aggiunge Alla tragedia Già caduta È che La polizia stessa Cioè i loro superiori Alcuni I loro superiori Di allora Non volevano Che si sapesse Quanto era accaduto Adesso è in corso È in corso Un'indagine Parallela Un'indagine Bis Che vede Indagati Funzionari Della polizia Che allora Erano in servizio Quel giorno Che hanno Ormai si sa Occultato Nascosto Delle prove Contrafatto Degli atti Aspetteremo Questa data Tutti insieme E teremo vivo Questo ricordo Perché Nella speranza Che non si dimenticano Queste cose Col blog Vi seguiremo Sulla rete E staremo vicino A voi Per questa avventura Sì Io devo dire Ho usato Ho preso esempio Da te Veramente Perché nel momento In cui eravamo Assolutamente soli Disperati Abbiamo usato la rete Sul tuo esempio Ed è stato grandioso E questo è il mezzo Di informazione Più grande Vi ringrazio Perché state dando voce A Federico Quelle urla di Basta e aiuto Adesso sono ascoltate Ciao Grazie Grazie Ciao Signori Ora un'altra testimonianza Sempre Se fatevi vedere Che siete voi Protagonisti Zoomate un po' Zoomate un po' Allora Un altro bolognese doc Un altro bolognese doc Un uomo che mi ha fatto Conoscere la differenza Tra la sicurezza E la legalità Un uomo che ha sempre vissuto Nella legge Un giudice Ed è un giudice Con senso dell'umorismo Straordinario Si chiama Norberto Lenzi È di Bologna Ed è L'ho conosciuto Perché lui È uno che ha Emesso una sentenza Di assoluzione Su tomba E la sentenza Di assoluzione Diceva Assolto Per non aver Capito Il fatto Norberto Lenzi Due parole Dal tuo punto di vista Di magistrato Grazie Buonasera Io credo Che Grillo Mi abbia chiamato A parlare qui Perché si vergogna Un poco di me Perché Lui dice Che fra i magistrati Che conosce Sono l'unico Che non ha mai avuto Un procedimento disciplinare Allora Te la sei preparata Allora vedrò Di accontentarlo Questa sera Anche perché Dopo quarant'anni Di servizio Sono ormai Fra quelli Che Berlusconi Con la sua Amabilità Definirebbe Magistrati Terminali Io allora Io allora Pretendo Che sulle proposte Che usciranno Da questa piazza E da tante altre Piazze italiane Sia pronunciata Una parola chiara E non le solite Frasi di circostanza Da parte Di quei politici Che ci stanno Promettendo Il rinnovamento Penso in primo luogo A Peltroni Ma anche A Cofferati Che tanto Si è Prodigato Per la legalità Cittadina E allora Siccome si parla Di rinnovamento Io vorrei sapere Da che parte Cominciare Ciampi Ha cominciato A dire Adesso largo Ai giovani Dopo sette anni Di presidenza Io continuo Più A fidarmi Di Scalfaro E di Ingrao Che non Della Brambilla O di Calderoli Sì Ok Grazie C'è un grande Rinnovamento Anche nel mondo Imprenditoriale Grandi complimenti Grandi complimenti Hanno ricevuto Gli industriali Per aver promesso L'espulsione Di chi pagherà Il pizze Per aver avuto Questo coraggio Ma di quanto coraggio Ci sarà bisogno Per espellere Chi paga Tangenti Chi assume I lavoratori In nero Chi non paga Le tasse Non mi risulta Grazie Non mi risulta Che avevano Espulso Tanzi Così come a suo tempo Non hanno espulso Le gresti Tanti altri E allora Perché non cominciare Dalle cose Più semplici Dalle cose Che diciamo qui Perché non cominciamo A mandare via Dal Parlamento I pregiudicati Guardate Non sarà Una cosa Semplice Perché qualcuno Ha perfino detto Che il Parlamento È lo specchio Del paese Io credevo Che in Parlamento Dovessero andare I migliori E che la La politica Dovesse precedere E non seguire La gente Altrimenti Altrimenti Se fosse così Allora anche I pedofili Anche i rapinatori Potrebbero Rivendicare Le loro quote Oggi Ingiustamente Prese Dai tangentisti E dai corruttori Grazie Lenzi Non ho finito Non faccio Maleducato Stai avendo Troppo successo È lì È lì Il video del comico Bisogna anche Ridefinire Il concetto Di etica Se è vero Che Moggi È andato All'Urd Sullo stesso aereo Con il cardinale Con il cardinale Ruini I colpi di spugna Che hanno affossato La giustizia Grazie a questo paese Grazie Lenzi Grazie 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 E ora Vieni Lenzi Vieni in Cassazione Vieni Mi richiama No no Finisci Finisci No era una battuta Finisci brevemente Perché ti sta andando via la voce Ma volevo dire Che allora A questo punto Non è più Il momento di Voltarsi dall'altra parte Non è più il momento di pensare Che ci sono altri Che possono fare le cose Al posto nostro Noi Dobbiamo Non ci dobbiamo più chiedere Per chi suona La campana di Peppe Grillo Perché la campana Come sempre Suona per voi Grazie Giudice Grazie 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 Dunque Ci arrivano Ecco Vorrei Se avete Un secondo Di pazienza Farvi vedere Una testimonianza Sul video Di un grande Cantante rock Che è con noi Sul video Non è potuto essere Qui fisicamente Ed è di nuovo Uno Più o meno Della vostra terra Luciano Ligabue Ecco il video Ciao a tutti Vi rubo Due minuti Sperando di non Annoiarvi troppo Allora Sotto gli occhi Di chiunque Il fatto che La politica E il paese reale Vivono su due Mondi Staccati Non c'è Non c'è nessuna Congiunzione Fra le due Parti Questo perché La politica È arroccata Su se stessa E questo perché Il paese reale Non si fida più Del sistema Politico Io credo Che fare Politica Seriamente Cioè nel senso Di seriamente Far funzionare Un paese Seriamente Riuscire Ad ascoltare Tutte le parti Che lo compongono Seriamente Riuscire A fare stare Un paese Al passo Quei tempi Sia un mestiere Difficilissimo E proprio per questo Siamo persone Speciali Che soprattutto Abbiano un forte Senso etico Ecco allora Io voglio A proposito Ringraziare Beppe Grillo Non solo per il solito Coraggio Per la solita Cocciutaggine E anche per il fatto Che Continua ad essere Il guastatore Che è Ma anche perché Ha fatto Delle proposte Che per questo Sistema politico Sicuramente Sono cazzutissime Ma nella realtà Sono normali Proposte Di buon senso E soprattutto Sono proposte Che possono Veramente Permettere Alla politica Di essere Molto più vicina Alla gente Mi piace Moltissimo Il fatto Che queste proposte Siano Di leggi Popolari Perché ogni tanto Dobbiamo ricordarci Tutti quanti Che i politici Non è che sono lì Perché sono lì E quindi Loro fanno I loro comodi E noi dobbiamo Accettare Con rassegnazione Tutto quello Che non ci piace In realtà I politici Hanno la funzione Di essere lì Per rappresentarci Quindi dare Delle risposte Chiare Ai nostri bisogni Desideri E aspirazioni Quando ci ricorderemo Con forza Che questo è quello Che dobbiamo pretendere Da loro Forse un minimo Di avvicinamento Ci sarà Nel frattempo Grazie ancora Da Beppe E auguri a tutti Se mi avessero detto Che vive a Bologna Di origine polacca Alla cattedra di architettura Qui a Venezia Signori Massimo Maioviezchi È qua È un signore Che si siederà lì Adesso È un architetto Che ci spiegherà Una cosa straordinaria Come oggi I comuni Gestiti da Persone Che non abbiamo Eletto noi Ma gestiti Da funzionari Di partito Svendono Il territorio Svendono Il nostro territorio Senza dirci Niente Assolutamente Nulla Devono imparare Che prima di prendere Qualsiasi decisione Devono consultare I cittadini Porca puttana E invece Che cosa fanno? Maioviezchi Siediti un attimo Che cosa fanno invece? Hanno i soldi Le sovvenzioni Dalle nostre tasse E parlano di cose Che non capiscono Allora Prendono i più bravi Architetti Del mondo Prendono Gli architetti Spagnoli Gli architetti Russi Per fare Delle cose Per avere L'alibi Di fare Delle cazzate Tremende Allora Gli architetti Come si deve Ci sono E bisogna Farli parlare Uno di questi E maioviezchi Che ora Vi fa vedere Due o tre cose Vai Massimo Possono partire Le immagini Vai Parlante Vieni Sedetevi Sì 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 Bene Ecco Vi ringrazio Molto Dell'invito Perché Posso dire Due o tre cosette Che è impossibile Dirle Normalmente Mi tocca parlare A 30 persone A studenti Che sono molto pochi Qui per me È una cosa Completamente fuori Dall'ordinario Ad ogni modo Ecco Mi sembra Di essere un cantante È un sogno Sei Sei una pop star Sì Sì Vai Ecco Io ho fatto queste cose qua E per quello Solo per presentarmi Lo stadio di Roma Poi Vai avanti Vai avanti Lo stadio delle Alpi E anche questo In Braga In Portogallo E altri ponti Eccetera eccetera È solamente per dire Che Ho voluto criticare Qualche cosa Andiamo avanti Ecco La prima critica Che avevo fatto Era sul ponte di Messina Che io ho scritto Sul blog Di Ecco Trattando di Di far capire A tutti Qual era la situazione Reale Colgo l'occasione Per il fatto Che hanno scritto Molti al blog Come risposta A quello che avevo scritto E Devo dire a tutti quanti Che in realtà Il ponte Tutti hanno detto Lì hanno scritto Ma sarebbe una cosa Italiana Stupenda In realtà non è vero Perché la gara Era fatta Da due componenti E dietro C'erano L'ingegneria Danese E giapponese Pertanto Non sarebbe stato Neanche italiani Anzi Avremmo fatto La figura Dei fessi Di quelli Che non sanno più Né costruire Né progettare E questa è la risposta Andiamo avanti Andiamo avanti Ancora Andiamo avanti Tanto che Io avevo diffuso Anche il Musmeci Che era quella bella Andiamo avanti L'altra cosa è La informatica Nella architettura Che cosa ha combinato Questa terza rivoluzione Guardate Con questo programma HTA Con questo rinoceronte Andiamo avanti Che si fa Sono dedicati Alla modellazione Di sedie Di macchine Eccetera Quello che voglio spiegare L'hanno scoperto Gli architetti Una parentesi Come progettano Oggi i grandi architetti Con questi sistemi Computerizzati Tridimensionali Sono dei software Che si chiamano Cattiari Non c'è quello Che vi state vedendo Allora Se andate per esempio A Barcellona Andate al museo Gogenheim Di Paul Si di Gheri Di Paul Gheri Come ha fatto a progettare Cosa fanno gli architetti Sapete come ha progettato Quel museo lì Uno dei più grandi architetti Ma l'ha anche detto Per prendersi per il culo E l'hanno preso sul serio Ha preso un foglio di giornale L'ha appallotolato L'ha mutato per terra Poi ha visto la forma Tutta appallotolata Ha messo una telecamera All'interno del foglio Stropicciato La telecamera Ha registrato Gli spazi vuoti All'interno All'interno del foglio Stropicciato E hanno costruito Un edificio Che ora vi faccio vedere Sono Pazzi Sì Vai Ecco Vai avanti Vai vedere Ecco per esempio Vedi La stessa cosa Questo è stato progettato Da Alvaralto E ce l'ho davanti In scrivania Ed è fatto con questa Adesso si fanno gli edifici Così Ossia non è più architettura Ma è industrial design Insomma Quello esiste? Sì esiste in Olanda Adesso per esempio Questo qua Che differenza c'è tra un oggetto qualsiasi? Si dimenticano le funzioni che ci sono dentro Che ci vivono le persone Basta fare scenografia Perché si vende solo il fumo ormai Se sei un pennarello Stai benissimo In un grattacielo così Ecco Ecco Addirittura nella stampa comune C'è la città della vanità Vai avanti Per esempio Quello che si chiama Effetto Bilbao Oggigiorno Ecco Questo è quello che si diceva Della prova Andiamo avanti È il museo di Bilbao Andiamo avanti Vedete Dietro il vestito Guardate cosa c'è Sembra Addirittura Già Decostruito Come si dice oggi Sembra crollato Sembra già crollato Il problema degli ingegneri Questo lo stanno facendo in Cina Se non sbaglio Andiamo avanti Che si vede anche quello Guarda Ecco Dopo tutti gli imitatori Andiamo avanti Velocissimi Sapete che queste cose Le fanno sul serio Con i soldi pubblici Vai Tu che ridi Con i tuoi soldi Che cazzo ridi Vai Ecco Questo è lo schizzo Dell'architetto Dopodiché diventa Guarda guarda Avanti Ecco È tutto lì Non l'avevo mai visto L'idea L'idea È quella E guardate Il pasticcio Per il povero ingegnere Un delirio Un delirio Questo è il pastrocchio Sei proprio Girati di là Perché ti viene l'esaurimento Vai avanti Ecco Vai 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 Ecco Queste sono Ecco Questo sembra già dopo un sisma In realtà è così Non è che È già fatto È già crollato Andiamo avanti L'altra Ecco Non è più di moda Bisogna farlo tutto storto Io ho visto quello che ci dice Il portiere Ecco guarda Una scatola sopra l'altra Andiamo avanti Chi lo fa Ecco questi sono quelli di Milano No? Allora c'è quello più alto Che è tutto storto Che guarda il poveretto Che è più piccolo Che è depresso Perché vide Sono uccelli Sono peni Sono i peni Fanno l'architetto Chi ce l'ha più lungo Hai capito? Ecco Chi ce l'ha rovesciato Chi ce l'ha sforzato Al centro Ecco questo Che è una chiapa mosche Guarda lì Andiamo avanti Andiamo avanti Che ce n'è di tutti Ecco questo Lo vedrete nelle prossime Olimpiadi È lo stadio olimpico Di Pechino 40.000 tonnellate d'acciaio Con 6.000 si fa uno stadio in genere È così che questo dispendio di energia Valeva la pena È così bello La questione non si potrebbe Ma le squadre cinesi Sono di 128 elementi Doveva Doveva sembrare un nido Ecco questo Vai avanti Guarda il nido com'è Guarda Avanti Ecco questo è un pezzo del nido Vai avanti Avanti veloce Veloce tanto Vai 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 Ecco questo altri Vai 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 Pure che Queste sono le cose che vedremo in futuro Ma si può fare una roba così Avanti 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 Un sedile di un Un sedile di un bambino No è un'occa Sono tutte nella letteratura tecnica Avanti Ora Ecco questo è un edificio in Olanda È un grattacielo che sembra una mummia che va in giro per la città È un delirio Ma io non ho mai visto Ma le fanno queste cose qua Porca puttana le fanno Me ne hanno fatto uno qua sull'autostrada Calatrava Quello spagnolo Calatrava Calatrava lo prendono per il culo in tutto il mondo Perché dicono che fa i ponti da lì a lì Cioè che non vanno da nessuna parte Ecco Calatrava ha fatto E lui è di Venezia Ora ci arriviamo Faccio vedere cosa fanno Vai vai avanti Vai avanti Che meraviglioso Il delirio in questo paese Ecco Questo è da lì Ecco L'hanno scambiato per un nuovo edificio Anzi uno mi ha detto Guarda che idea fantastica tra un edificio e l'altro Un bel ascensore inclinato Invece è un quadro di Salvatore da lì Vi dico questo ponte che stanno facendo a Venezia Che secondo lui Tra un po' succederà qualche casino Perché non regge Hanno fatto un ponte che unisce Il piazzale Come si chiama? Piazzale Roma Dove arrivano le macchine Unisce la stazione Come se uno arriva a Venezia E dice Dalla stazione dice Vado un po' a vedere che macchine ci sono nel piazzale Oppure uno che arriva in macchina sul piazzale E dice Vediamo chi è sceso dal treno Ma vaffanpula Che buono Le conclusioni? Vai Dopo finiamo Ecco La faccenda è che Qua abbiamo un know how molto grande Nel senso che sappiamo E possiamo far di tutto Se non ci chiediamo più il know why Perché? Perché? Ecco E per esempio nelle passerelle Così arriviamo a quel ponte Prima si facevano per andare da qui all'Ara Andiamo avanti Adesso invece Questo è Steinberg Vedete Da A a B Mano a mano Per essere sempre più Sofisticati Faremo qualcosa del genere Piano piano arriveremo a quello Andiamo avanti Vediamo Ecco queste sono le nuove Le nuove generazioni Sempre più impasticciate Andiamo avanti Vedi Qua le strutture tutte Sbilanciate Che così costano 4-5 volte di più E per andare da A a B Invece facciamo tutto il giro Così Così Ecco Questo Ecco Ma come adesso Questo è già stato scoperto Il prossimo sarà tutto così Ecco perché E' Venezia Ma non hanno appena montato Io so tutta la storia Potrei stare qui un'ora Però non Diciamo che questo Costa 2 milioni di euro Adesso costa 14 milioni di euro Sono sette anni per farlo Ecco Si poteva spendere meglio Questi soldi qua Andiamo avanti Che Fai vedere Finiamo Ecco questi A Rialto L'hanno fatto a mano In tre anni In tre anni Nel cinquecento In tre anni E questa è la tecnologia Ecco per esempio Ci sarebbe per i politici Ci sarebbe L'analisi del valore Che dice Che ognuno si prende le responsabilità Vale la pena Fare una cosa Guardate qua A Merida Questo bellissimo ponte Famoso ponte romano Guarda cosa ci hanno fatto dietro Per essere Per essere Innovativi Ecco Guardate un po' Con la prossima Come starebbe meglio Ma è roba incredibile Non sta meglio Ma è incredibile Lo capite che se chiedessero Il nostro parere Su queste stronzate qua Non le farebbero mai Ecco perché non ci interpellano E queste persone qui Non riescono a parlare Nei consigli comunali Non li fanno entrare Avete capito come siamo messi Finisci Abbiamo finito Hai finito Eccolo Ecco Volevo far vedere A Casalecchio Almeno ho fatto una cosa qui Invece che andare in Cina Casalecchio L'ha fatto lui Ecco Sono 100 metri di luce Invece degli 84 Di là Costa 620 mila euro Potete andare a cercare Al municipio Se è vero Quel che dico o no 620 mila euro Ecco Adesso facciamo Si possono fare le cose Questa qui Però mi sembra un po' caro Sì sì Non ti dico la parcella Ecco E questa è l'ultima Che viene adesso Nel casello di Padova Anche questa costa 2 milioni di euro Invece che 14 Ed è molto più grande Addirittura Io Fine Fine Pensiamo Dai Ti ringrazio Maiovese Sei meraviglioso Come al solito Grazie Signori Sì Dammi Dammi Se qualcuno Vuol dire qualcosa Quel signore col megafono Che c'era L'abbiamo messo lì Poi parlerà anche lui Questa è la vostra festa Adesso io vi voglio far parlare Con una persona straordinaria È una persona Della società civile È un professore Ha fatto l'assessore È un esperto Di sistemi di efficienza energetica E siamo diventati amici È diventato il consulente energetico Del ministero dell'ambiente Poverino Signori È quello che ha analizzato Il discorso di Veltroni Che ha fatto a Torino Per la sua candidatura In un partito Che non esiste Come non esiste lui Ve lo voglio presentare Signori Maurizio Pallante Eccolo lì Scrive Scrive Libri Straordinari Vai Buonasera a tutti Vedete dal mio punto di vista Mi occupo di questioni ambientali E di energia Per me una ragione decisiva Per aderire alla V-Day È che la casta dei politici È troppo occupata In lotte di potere interno Per garantirsi il cadreghino E i privilegi che ne hanno Per occuparsi delle questioni ambientali Non hanno fatto quasi nulla Per affrontare i nostri problemi ambientali Non ne sanno quasi nulla E non gliele importa nulla Quel discorso che diceva prima Beppe di Veltroni Dimostra un'assoluta ignoranza dell'argomento E degli assurdi logici Questa persona non sa distinguere gli obiettivi dai mezzi per raggiungerli Per lui sono la stessa cosa Va bene Quando si dice di ispirarsi a quella sinistra anglosassone Che fa delle cose invece molto serie Tutti voi avrete letto Avete visto il film di Al Gore Avrete saputo che Clinton si sta occupando con una fondazione Per ridurre i consumi energetici delle città Che Tony Blair Che Gordon Brown Stanno costruendo a Londra Dei quartieri interi Con case che hanno bisogno di pochissima energia E se la fanno con fonti rinnovabili Che il sindaco di Londra Livingston Ha bloccato il traffico nella città Ebbene Veltroni ha avuto il coraggio Senza aver fatto nulla di queste cose Pur essendo da otto anni sindaco di Roma Di dire che la cosa più importante da fare È la politica ambientale E di dire su questa politica ambientale Delle cose che sono prive di senso E sapete perché? Perché la politica ambientale in Italia Le fanno le grandi multinazionali dell'energia E le ex municipalizzate Che dietro il discorso di affrontare i problemi ambientali Invece fanno dei lucrosi business Sulla salute della gente E sul danno ambientale Ci fanno passare Ci vogliono far passare Come soluzioni moderne ed ecologicamente compatibili Gli inceneritori Quando invece ci sono esperienze molto belle E molto importanti Anche qui in Emilia Romagna Di raccolte porta a porta Che arrivano fino al 60-70% Di raccolta differenziata Senza nessun tipo di impatto ambientale Soltanto che gli inceneritori Riescono a prendere i chip 6 Cioè dei soldi che noi paghiamo Sulle nostre bollette Per le fonti rinnovabili E le mettiamo invece per Finanziare delle strutture Che guastano l'ambiente Che emettono delle nanoparticelle Che creano dei problemi Alla salute delle persone Hanno fatto delle indagini In cui si vede che Chi abita vicino agli inceneritori Ha delle incidenze di malattie tumorali Più alte che nel resto delle altre parti Hanno il coraggio di far passare Come una soluzione ambientale I ricassificatori e le nuove centrali Le centrali a carbone Con tutte le popolazioni Si stanno ribellando a queste cose Perché esistono delle soluzioni Molto più interessanti Dal punto di vista ecologico E dal punto di vista economico Noi sprechiamo il 70% dell'energia E ci vogliono dire Che dobbiamo fare altre centrali Per diminuire la nostra dipendenza dall'estero Se ci saranno altre centrali E altri ricassificatori Aumenterà la nostra dipendenza dall'estero Aumenteranno i guadagni Di chi vende energia Con le grandi aziende In posizioni monopolistiche O lipocolistiche Ci fanno credere Che il TAV Il treno a alta velocità Sia una soluzione di carattere ambientale Quando si sa benissimo Che la maggior parte Diciamo dei biglietti L'80% dei biglietti Che staccano le ferrovie dello Stato Sono per viaggi inferiori a 50 km E il TAV Non può fare fermare Inferiore a 100-120 km Altrimenti Non raggiunge la velocità È semplicemente una maniera Di guastare Irremitabilmente Delle porzioni di territorio Io ho visto il tratto Che hanno costruito Tra Torino e Milano È una trincea di cemento enorme Spaventosa Che ha diviso La pianura padana E che non risolverà Il problema del traffico Perché tutti i pendolari Dovranno continuare A prendere dei treni Indecenti O le automobili E A incolonnarsi Allora Io vi dico soltanto Che se Vogliamo Affrontare seriamente I problemi ambientali La prima cosa da fare È mandare a casa Questo intreccio perverso Tra politiche e affari Che ci sono Nelle ex municipalizzate E nelle aziende Che vendono energie In maniera populistica Grazie Grazie Sei stato un po' breve Perché questa storia Dell'energia Io la porto avanti Da almeno 15 anni 15 anni La storia dell'energia Dei rifiuti Viviamo in un'epoca strana Ci scambiamo i rifiuti Uno con l'altro Ce li portiamo di qua Ce li portiamo di là Siamo nella fase Anale Dei bambini Quando si scambiavano La merda Tieni questo stronzetto Me ne dai un po' Dalla tua I rifiuti Quando c'è un rifiuto Vuol dire Che nella catena Nella filiera Per comporre Per costruire Questo rifiuto C'è un errore Non devono esistere I rifiuti Perché quando c'è Un rifiuto È una cosa Fatta male Il rifiuto Di un'azienda Deve essere La materia Prima di un'altra Non devono esistere I rifiuti Zero Invece Questi politici Non sanno Di che cosa Parlano Parlano del futuro E hanno 70 anni E parlano di un futuro Che non vedranno mai Abbiamo bisogno Di sangue giovane Abbiamo bisogno Di aprire il tombino E far uscire la puzza Abbiamo bisogno Di parole nuove Parole nuove Io sono stufo Di essere preso Per il culo Dal tesoretto Lo scalone Parlano del tesoretto 4 miliardi 4 miliardi di euro E abbiamo Ogni mese Un aumento Del debito pubblico Di 17 miliardi Vuol dire 250 miliardi Di debito pubblico Ogni anno È come se Un conto corrente Che metti i soldi E il segno È sempre negativo Questo è un paese Che non c'è più E invece Questi di che cosa Parlano? Due pensionati Di 70 anni E allora Quando parlano Parlano di economia Di che cosa parlano? Parlano da 70 anni Delici Della pensione Della seconda casa Parlano di soldi Siamo il popolo Più vecchio del mondo Siamo E i vecchi hanno paura Più i vecchi Più hai paura E la paura È il terzo Fatturato Del mondo Abbiamo bisogno Di parole nuove Guardami 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 Ti stavi distraendo Parole nuove Come creative commons Come copyleft Come rivedere Tutte le leggi Dei brevetti E dei diritti D'autore Che fermano Il progresso Dei paesi Ah io mi ricordo Ma io ce la vivo Il ricordo Io abbiamo fatto Le primarie Attraverso la rete Siamo stati sei mesi A fare le primarie Sull'energia La sanità Sull'economia Abbiamo chiamato I più grandi specialisti Del mondo Hanno detto Sul blog Hanno dato consigli Ho preso le migliori cose Dell'energia Della salute Dell'economia Della rete Dell'informazione Le ho portate In una cartellina A Valium A Prodi Sono entrato Mi sono messo la cravatta Sono andato A Montecitorio Un'esperienza terribile Entrare in quel posto lì Sembrava una comunità Di recupero Ve lo giuro Sono entrato A Montecitorio Fermi Entro a Montecitorio Pieno di gente Così con cartelline Che passavano Appena manvisto C'è Grillo C'è Grillo Via 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 C'è Grillo Arrivo Do questa cartellina A Prodi Gliel'ho portato Ho detto 850.000 persone Hanno dibattuto Su queste cose Le primarie Dovrebbero essere queste Perlomeno Dateci un'occhiata E glielo spiegate Ed è successa Una cosa sconvolgente Mentre io parlavo Che mi infervoro Per carattere Mentre parlavo Con Prodi Prodi ha fatto una cosa Che non mi aspettavo Ha chiuso gli occhi E ha sorriso E con i gesti Faceva Ora Cosa gli dice A uno che sorride E con gli occhi E con gli occhi chiusi C'era vicino C'era il suo Portavoce Sircana Che combinazione Era in borghese E dico Sircana Cosa c'ha C'ha l'encefalite Letargica Quest'uomo qua Mi dice No Fa sempre così Pensa E allora E allora io che parlavo Lui con gli occhi chiusi Così A un certo momento Ho avuto una reazione Che io non prevedevo Ho chiuso gli occhi Anch'io Mi sono sdraiato Sul divano Ci siamo bevuti Due tolitri Di camomilla E ho detto Va tutto bene Affanculo Ci vado io E allora E allora E allora Ho avuto modo Di dare un'occhiata Ho avuto Cavinato Dell'ACU Associazione Consumatori Utenti Cavinato Qui con un banchetto Che si fa un culo così Sono quelle associazioni Che sono vicine Alla gente Vere ACU Eccolo lì Col beretto giallo E allora Ho potuto dare un'occhiata Ho potuto dare un'occhiata Agli uffici Di Montecitorio A vedere Il loro sviluppo Il loro parlare di futuro Ho visto I loro computer Gialli Pesanti Con un motore sotto Così Pagano Ci chiedono sacrifici Con le finanziarie E pagano Milioni di euro All'anno Per diritti D'autore A Bill Gates Perché non sanno Cosa cazzo sia L'open source Il software libero Che vergogna Una vergogna Ecco perché questa manifestazione Li prenderà la sprovvista Perché non sanno Cosa gli sta arrivando addosso Non sanno nulla Vi dico questo Bertinotti La prima volta che ha visto Un portatile È rimasto lì Non riusciva ad aprirlo E mi ha detto Non ce n'è uno Senza coperchio Sgarbi Che una persona Perlomeno Starà sul cazzo Ma è intelligente No, non si può dire No, non si può dire che sia stupido Bene L'ho chiamato una volta Perché lui Su un giornale Aveva detto Che era contro il posteggio In centro a Milano Per le macchine Ho detto Cazzo Ha detto una cosa Nella sua vita Una Che condivido L'ho chiamato Ho detto Vorresti mica scrivere Trenta righe Di questa cosa Sul blog Ma ha detto Sì Sono in macchina Allora fermati Che ti do la mia e-mail Ve lo giuro È successo così Lui si è fermato Io ho dato la mia e-mail E dicevo Beppe E sentivo Di là al telefono Beppe Chiocciola E sentivo Chiocciola E io ho detto Due c L'hai scritto Chiocciola Punto it Mandala lì Testa di cazzo Abbiamo bisogno Di parole nuove Abbiamo bisogno Di giovani Di trent'anni Che cominciano Andare avanti Che cominciano A parlare Di economia E io vi ho parlato Di economia Io ho fatto Un piccolo libro Grazie Ma cos'è? Lo vuoi sentire subito? Allora Ve lo tengo Allora Adesso non mi ricordo Più che cazzo Stavo dicendo Allora Allora No, non ho fatto Un libro Sull'economia Ho fatto un libro E mi è successo questo Ve lo voglio raccontare Mi arrivano 20.000 lettere Da precari Perché abbiamo rubato Una generazione Ai ragazzi Ci sono 6 milioni Di precari In Italia E che cosa Ha partorito Questa politica Dalla legge Trenta Alla legge Treu Alla legge Biagi Che sono leggi Da abolire Domani mattina O da cambiare Sono leggi Imperfette Tira giù Quella bandiera Cazzo Tira giù Porta sfiga Tira giù Poi la sventoliamo Guarda È una manifestazione Talmente straordinaria Non c'è una bandiera È questa È questa la nostra bandiera Cazzo Giusto Allora Io raccolgo 20.000 lettere Mandate da 20.000 Ma sembrava Il libro di fantozzi C'era uno Che mi scriveva Mi diceva Grillo Io tutte le volte Che entro in ufficio Devo firmare Il mio licenziamento Se no non mi fanno Laborare Mi licenziano Per essere assunto Devano licenziarmi Ma che cazzo Di mondo è questo qua Allora Ho raccolto 20.000 lettere Da 20.000 Ne ho preso 400 Le ho messe In un libro Che si chiama Schiavi moderni Ve lo potete scaricare Non costa niente È gratuito Perché non l'ho scritto io Dopo la casta Dopo la casta Di Rizzo e Stella È il libro Più Letto In Italia Oggi Non ne parla nessuno Ma non ce ne frega A un cazzo Che ne parlino Non abbiamo bisogno Di soldi Cosa ho detto Cosa ho detto Dio mio Bene Prendo questo libro Lo porto Va da Roma Col treno Lo porto Al ministro Del lavoro Damiano Lo porto E gli dico Guardi Ci dia un'occhiata Sono migliaia di ragazzi Sono lettere vere Lo porto lì E lo vedo Innanzitutto Pensavo Si fosse vomitato Ad osso Invece era la cravatta Poi con i capelli così Era un po' impaurito Dico Si calmi Prenda il libro Lei è il ministro del lavoro Questo è il lavoro E lui lo prende E mi dà una risposta Straordinaria Mi dice Sa Io lo prendo Però Sono qui per caso C'è Ho detto Ministro Che cazzo sta Dice Sono io Che sono qua Per caso Bene Per farvi dire Questo libro Ha una prefazione Di un premio Nobel Per l'economia John Stiglitz Che dice due cose Sulle leggi Sul precariato Dice che non è il problema Del precariato Il problema vero Non sono le leggi Sul precariato Il problema vero È che non c'è lavoro In Italia Non c'è il lavoro Perché se ci fosse il lavoro Non esisterebbero leggi Su sto cazzo Di precariato E Stiglitz Dice due cose Per modificare la legge Dice Che un'azienda Non può avere La maggior parte Di precari Assunti Ne deve avere Una piccola quota Una piccola quota Ne deve avere Non la maggior parte È un precario Dice Stiglitz Lo devi pagare Di più Non di meno Perché Ha dieci volte Più possibilità Di essere licenziato Lo dice un premio Ma la cosa è strepicosa Che lo dice Un premio Nobel Bene Il premio Nobel Non l'ha menzionato nessuno Icchino Ha fatto un articolo Dandomi del terrorista Ma questo libro Si sta scaricando E si sta leggendo In tutta Italia E in fondo al libro C'è una prefazione Di uno che è dentro Il mondo del lavoro È un professore di economia Con due coglioni così È un professore di economia Dell'Università di Ancona Ha voluto esserci È qui È un professore di economia Che parla di lavoro Vorrei che lo sentisse Attentamente Si chiama Mauro Callegati Vieni Mauro Un pochino Vieni Mauro C'ha quattro ruote motrici Ce l'hai il bollo Vai tranquillo Mauro Callegati Ciao ragazzi Devo dire Io insegno all'università E in generale insegno davanti a 20-30 persone Per cui Insomma Vedete la piazza piena E Venete qui Ed è fermato Da gente che diceva Sono precario Grazie per quanto Grillo Stigli State facendo È veramente Insomma Commovente In ogni caso Fino a ieri Insegnavo all'università E non so se dopo Dopo oggi Avrò La stessa possibilità Insomma Allora Noi siamo arrivati Con questo libro Ad una cosa Relativamente Semplice Nel senso che La legge Sul precariato È una legge Che è stata Utilizzata Solo per Diminuire Il costo Del lavoro In questo senso I nostri politici Non sono preoccupati Di Diminuire Solo I salari Ai precari Che Come vi ricordavo Beppe Prima È una cosa Abbastanza Ridicola È come se voi Andaste in banca A chiedere Un mutuo E Diceste Guardate che però Il Insomma Con molta probabilità Non riuscirò A restituirlo E il Direttore della banca Dice Dice se benissimo Pagare Tutti Interessi Molto Più Basso Degli Altri Perché Pagare Un salario Più Basso Ai precari Vuol dire Soprattutto Questo Ridurre La gente A Mendicare Più o meno Un posto Di lavoro Il problema Poi Non è Solo Che Non abbiamo Un salario Decente Il problema È che Il taglio Del Lavoro È stato Fatto Sui Contributi Previdenziali Per cui Noi abbiamo Una Intera Generazione Di persone Che Attualmente Vivono In condizioni Di Precretà Con Un salario Bassissimo E Da Pensionati Non avranno I soldi Per andare Avanti È Vero Che Insomma Diciamo Quelli Nati Dal Settanta Alla Fine Nell'ottanta Purtroppo Sono Perché Giovani E Quasi Morti Fami Da Pensionati Però Magari Ti abituate Insomma Tanto È Così È andata Così Però È chiaro Che è una Situazione Che non Si regge Ed è Assolutamente Ridicolo Che Questo Venga Enfatizzato Solo In un libro Di Beppe Voi non sapete Quante volte Siamo Sentiti Beppe E io Al telefono E Beppe Era Giustamente Imbufalito Perché Lo accusavano Di essere Un terrorista Di cazzate Ne dice Tante Però Probabilmente Terrorista Non è Grazie a tutti Bene Bene Ora Vogliamo dare Un abbraccio Simbolico A chi ha organizzato Tutto questo Di chi è Veramente Il merito Di tutto questo Che sono i ragazzi In tutta Italia Abbiamo il primo Collegamento Con i ragazzi Che hanno preso Le firme Questo è il Meetup Di Rieti Siete in onda Vai Com'è andata La raccolta Delle firme Com'è andata La raccolta Delle firme Parla Parla Non senti Prova a parlare È andata Benissimo Mi senti Mi senti Dove sei Dove sei Stai tranquillo Stai tranquillo Io ti sento Stai tranquillo Fermati Peppino Peppino Come va Come va Va bene Va bene Allora andiamo avanti Gelo dite che Vai Si sente benissimo Quello che dici Va benissimo Io Io sento otto ego Sento otto ego Diverse E successive Parla La raccolta Delle firme Va benissimo Qui a Rieti Che è notoriamente Una zona Un po' Difficile Vabbè Cominciamo a essere da Roma In giù è un casino Ragazzi Io ve lo dico Però Adesso Ma allora Nell'attesa Che lui Si Si Ristabiliamo un po' Perché le tecnologie Purtroppo siamo in Italia E dobbiamo parlare Dobbiamo passare sempre Attraverso Un monopolio Naturale Che è Il tronchetto Dell'infelicità A cui Dedicherei Un sonoro Vaffanculo Che bello Dal diaframma Bene Allora Quelli che hanno organizzato Questa serata Sono dei ragazzi Sono loro La grandissima cosa Sono i meet up Sono 50.000 ragazzi In 200 città in Italia In 30 città nel mondo Voglio presentarvi Il meet up di Bologna Sempre in prima linea Su tutte le battaglie Per l'acqua Per gli inceneritori Per la mobilità Per la connettività Eccoli qui Sono tre Che sembrano Dei disgraziati E sono Dei disgraziati Hanno raccolto Hanno raccolto Le firme Signori Siamo a 300.000 firme E' un referendum Cazzo è un referendum Abbiamo fatto un referendum Senza accorgercene Eccoli lì Grazie a tutti Per il vostro sostegno E volevo solo dire Un flash Perché siamo qua Perché siamo così tanti Perché c'è un solco Un buco Che si è creato Tra i cittadini E la politica E' importante Che noi non lasciamo cadere Quest'iniziativa Oggi Questa sera E ci sentiamo appagati Da questo successo E' per questo Che il meet up di Bologna Vi vuole proporre Un'altra iniziativa Che è strettamente legata Ai temi del VU2I Che sono quelli Della partecipazione Quindi vi invitiamo tutti Anche se non ci starete tutti Il 22 settembre Che è sabato E inventiamo un nuovo modo Di fare politica Divertendoci Faremo il No More Coffee Party Coffee per il nostro sindaco Perché? Non perché non ci piace il sindaco Ma perché non ama le primarie Lo possiamo votare Lo potrete votare E faremo le primarie Il 22 settembre Al giardino di Vicolo Bolognetti Potete votare il vostro vicino di casa Chi vi sta più simpatico Il politico Che non ce l'ha fatta Perché non ha avuto i soldi Per fare la campagna elettorale Vi aspettiamo alle ore 21 Grazie Aggiungo che Vi potete iscrivere Al meetup di Bologna Basta andare nel sito www.beppegrillo.it Cercate la vostra città Bologna Ferrara Quella che volete Non costa niente È semplicissimo E per quello che riguarda Bologna Cerchiamo sempre di incontrarci Il secondo giovedì di ogni mese Siamo pronti a accogliere Tutte le iniziative Che volete proporci E l'importante Che partecipiate Perché Quello che fa la differenza Tra L'avere un successo E non averlo È proprio esserci E contare Salve Io sono Giovanni Sono l'organizer Del meetup di Bologna E innanzitutto Vi ringrazio tutti Per essere qui Perché Il colpo d'occhio Del parco È qualcosa di unico Poi volevo ringraziare Beppe Che ha organizzato Tutto questo E ci ha voluto Regalare Questo momento Indimenticabile Indimenticabile Con dei grandissimi personaggi Dei grandissimi giornalisti Lui soffriva di anoressia Ha fatto una cura E ha vinto Ti voglio bene Io ce l'ho fatto Grazie a tutti Grazie Volevo dire una cosa sola Innanzitutto Volevo ringraziare anche i ragazzi Che sono ai banchetti Che sono stanchissimi Certo Per cui Chiunque avesse voglia Di andare al banchetto A dare una mano A dare i cambi È il benvenuto Bene E poi vorrei farvi una richiesta Se potete girarvi tutti di schiena Per fare un applauso Ai ragazzi che sono al banchetto Grazie Grazie ragazzi E volevo farvi sapere Che nei prossimi giorni Nel caso in cui Volessimo continuare A raccogliere delle firme Noi lasceremo un presidio In comune Qui a Bologna Palazzo da Curso Dove voi potete venire a firmare Con la carta d'identità Con la carta d'identità E poi Nel caso dovessimo Organizzare altre manifestazioni Potete venire sul board A conoscerle E raccoglieremo altre firme Sicuramente lo faremo Al No More Coffee Party Vi ringrazio tutti E vi saluto Grazie E ora Le piazze collegate Barcellona Calgary in Canada Chicago Dublino Las Palmas Las Palmas Creva il cuore Che cazzo l'ha messo? Lausanna Madrid Nostradale North Hotel Auckland New York San Francisco Tokyo Bruxelles Denver Locarno Londra Lugano Lussemburgo Nizza Perth Australia I nostri amici italiani hanno fatto un banchetto di firme davanti all'ambasciata di New York e hanno mandato un filmatino perché il collegamento salta e abbiamo un filmato dei nostri amici di New York Eccoli qui, vai! 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 Vai! Eccoli qui, vai! E' bello abitare in questo paese quando ci si muove dal basso tutti insieme veramente un giorno straordinario Grazie! Figo! Si chiama Figo! Roberto Figo! Senti, allora, quante firme avete portato a casa? Pronto? Sì, va bene! Grazie Figo! Scusate! 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 Adesso abbiamo una serie, una migliore dell'altra, io quando parlo di informazione mi incazzo, perché se siamo ridotti così noi nelle piazze a fare queste cose è perché in Italia manca l'informazione, che è proprio collusa col sistema. Nonostante questo ci sono ancora dei giornalisti, pochi, che cercano di fare il proprio lavoro. Cosa c'è? Aspetta, sì, ve li voglio presentare tutti. Signori, venite avanti, qui non c'è né destra né sinistra. Marco Travaglio. Massimo Fini. Vieni, siediti. Allora, sedetevi lì, poi la sorpresa, non farti vedere. Poi c'è una sorpresa, dato che lui deve andare in redazione per fare il pezzo. Lui si chiama Ferruccio Sansa, è un giornalista di quelli che fa l'indagine. Sono quei giornalisti che vanno a prendere le documentazioni. E questo signore qui, che adesso vi presento, figlio di un magistrato di Genova, è quello che è andato a scoprire. Ce lo menano con le evasioni fiscali. Bene, lui, il suo giornale dove scrive il secolo. Noi del blog vogliamo sapere dove sono andati a finire 98 miliardi di euro di evasione fiscale delle concessionarie dei monopoli di Stato. L'indagine l'ha fatta questo signore che è qui, Ferruccio Sansa. È bellissimo che finalmente qualcuno applauda i giornalisti. Ed è bellissimo che finalmente qualcuno risponda a questa inchiesta che abbiamo fatto, visto che sono mesi che chiediamo a Visco di risponderci, che abbiamo chiesto a Prodi di risponderci e non si sono degnati di dire una parola. Ecco, la tattica che hanno usato loro adesso è quella del muro di gomma. Noi dobbiamo evitare che possano utilizzare questa tattica con successo. Dobbiamo ripetere fino alla noia le domande a costo appunto di sembrare ripetitivi. Loro vogliono stancarci. Noi dobbiamo continuare, resistere, ripetere le stesse domande finché non li infiacchiamo. Noi abbiamo scoperto, non è che ce lo siamo inventato, né che avessimo intenzione di prendercela con questo, quella parte politica. Ci siamo basati su atti di una commissione di inchiesta e su quello che ha detto la Corte dei Conti, atti pubblici. Ci hanno detto che in base a un'inchiesta della Guardia di Finanza, cioè non di pericolosi sovversivi, le concessionarie di slot machine in Italia devono allo Stato e quindi a noi 98 miliardi, cioè quelli con 9,0 di euro. Ora, quando ci chiederanno nuove tasse per una manovra da 12-13 miliardi, ricordatevi che hanno regalato a queste società alcune delle quali vedono nel loro consiglio di amministrazione persone di famiglie vicine a Cosa Nostra ed altre sono amministrate da persone e da membri di partiti politici, soprattutto alleanze nazionali, come invece il bingo era in mano a EDS e alla Lega. Ricordiamoci sempre che ci chiedete nuove tasse per 11-12 miliardi di euro, ci chiedete sacrifici per tagli di 11-13 miliardi di euro, ma dove sono finiti questi 98 miliardi di euro? In Parlamento già si parla di una legge che le soluzioni sono due, o una forfettizzazione della multa, ma allora io quando prenderò la prossima multa per un divieto di sosta chiederò che mi sia forfettizzata. Oppure addirittura, sentite, sentite, parlano di un condono tombale, cioè regalare 98 miliardi di euro a queste società private. Noi seguiremo questa vicenda fino alla fine, voi stateci vicini e non dimenticatevi questa vicenda. Se parleranno di condono tombale sarà regalare a società quotate in borsa un tesoro molto più grande di quello che ci chiedono a noi. L'altro giorno abbiamo chiesto a Prodi, decine, centinaia, anzi migliaia di nostri elettori hanno scritto a Prodi chiedendo una risposta. Sul sito del Governo la risposta è stata questa. Attenzione, ci vuole cautela perché sono società quotate in borsa. Ecco, noi non siamo quotati in borsa, ma abbiamo bisogno dello stesso rispetto. Grazie a tutti. Grazie Sansa. Buon lavoro. Bene. Beh, adesso aspettando altre persone vorrei dare la parola a uno tosto che è sempre stato tosto, è sempre stato contro, ha scritto dei libri straordinari, straordinari e è questa persona qua. Si chiama Massimo Fini. Grazie Massimo. Io sono d'accordo, come ovvio, sui tre punti fondanti del vaffanculo dei, e cioè il fatto che non ci siano inquisiti in Parlamento, che non ci siano parlamentari per due legislature e che noi si possa tornare a votare e a scegliere i nostri candidati. Però ritengo che questo sia un modo per rendere presentabile qualcosa che è presentabile non è, che è indecente, che è una truffa e questo qualcosa si chiama democrazia rappresentativa. Io ho definito e definisco la democrazia rappresentativa in modo un po' brutale, se volete, un modo per metterlo nel culo alla gente col suo consenso e soprattutto alla povera gente. Innanzitutto non si è mai capito bene che cosa sia la democrazia rappresentativa. Norberto Bobbio, che ha dedicato tutta la sua lunga e laboriosa vita a questo tema, non ne viene a capo. Una volta indica come elementi esenziali della democrazia rappresentativa 9, una volta 6, una volta 3. Comunque prendiamo due elementi che vengono considerati dalla vulgata come esenziali della democrazia e cioè il voto è uguale, one man, one vote, come dicono gli anglosassoni, il voto è libero. Ebbene, il voto non è uguale, il consenso è taroccato. Il voto non è uguale per la ragione definitiva che è stata illustrata da quella che viene chiamata la scuola elitista italiana dei primi del Novecento, cioè Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Roberto Michels. Dice Mosca, cento che agiscano sempre di concerto e d'accordo prevaranno sempre su mille che agiscano liberamente. Il voto non è, il consenso non è libero perché è ampiamente condizionato dai mass media che sono in mano ai soliti noti e che non a caso si chiamano strumenti del consenso. In realtà la democrazia rappresentativa è un sistema di oligarchie, di minoranze organizzate, di aristocrazie mascherate che schiacciano il cittadino singolo, l'uomo libero che non vuole umiliarsi a infeudarsi in queste oligarchie, in queste minoranze organizzate, i partiti e gli altri lobby economiche, criminali, spesso legate tutte insieme e che sarebbe quello di cui il pensiero liberale voleva valorizzare meriti, capacità, potenzialità e che invece la vittima, che sarebbe il cittadino ideale di una democrazia e che invece ne diventa la vittima designata. Senza fare troppa teoria, lo vediamo tutti che non contiamo niente, che la nostra voce non è ascoltata. Qualche anno fa a Piazza San Giovanni sono state radunate un milione di persone su un tema come le leggi ad persona, ma quindi un tema giuridico di difficilissima, è più facile radunare la gente su temi economici piuttosto che di questo tipo, ebbene non c'è stata nessuna risposta né da destra né da sinistra, anzi a sinistra si è detto spesso sentito dire non mi confonderai con un girotondino, come se andare in piazza non fosse il primo diritto politico del cittadino che viene prima del voto, noi in realtà ogni cinque anni lasciamo perdere poi naturalmente il problema della democrazia in senso mondiale, occidentale, poi la democrazia italiana e Grillo l'ha illustrato così bene, ha delle degenerazioni assolutamente intollerabili, ma il problema della democrazia rappresentativa riguarda tutte le democrazie occidentali. È un sistema, diceva Hans Kelsen che non è un marxista e non è un estremista talebano, che è un sistema di fictio iuris, di finzioni e si chiedeva che, anzi diceva che sembra che la funzione dell'ideologia democratica sia quella di far credere, di dare l'illusione ai cittadini, l'illusione della libertà e si chiede fino a quando questa straordinaria scissione fra realtà e ideologia possa continuare. È la domanda che mi faccio anch'io da parecchio tempo. Ora naturalmente le democrazie che sono nate su bagni di sangue hanno messo un tappo concettuale, una specie di norma di chiusura, sostenendo che la democrazia è il fine e la fine della storia, per cui noi saremmo condannati a morire democratici. Io credo invece che come ogni sistema che non rispetta nessuno dei suoi presupposti, prima o poi cadrà. Non sarà un ludico evento come questo organizzato meravigliosamente da Beppe, non sarà certamente la generazione di Grillo e della mia, ma prima o poi una truffa di questo genere deve essere eliminata. Grazie. Grazie Massimo. Allora sta succedendo l'ira di Dio. Abbiamo la CNN, la BBC, tutti... non abbiamo il Tg1, il Tg2, il canale 5, ma li mandiamo a Fancurà. Bene. No, ma ci arriveranno anche loro. Adesso devo presentarvi, secondo me, una grande combattente. Di nuovo. Una che è uscita dalla porta e rientrata dalla finestra. Signori, eccola qui, Sabina Guzzanti. straordinario, vai. Ha paura, aveva paura che voi l'accoglieste così, con un po' di freddezza. Guarda un po'. Bravissimo. Grazie. Anch'io ho aderito a questa manifestazione senza sapere di che cosa si trattava. Questo slogan, vaffanculo, mi sembra che racchiuda bene tutto quello che si può pensare. Vuoi andare al vaffanculo dei? Sì. Si può dire vaffanculo sicuramente alla corruzione. L'informazione è un tema sicuramente legato alla corruzione, perché se tu non lo sai che quel politico è corrotto, se lo fanno parlare come se niente fosse in tutti i talk show, che i cittadini non lo sanno e lo scambiano per una persona per bene. Io ho preparato a dimostrazione della mondezza dell'informazione che si trova in Italia un piccolo corsivo che però leggo perché non ho fatto in tempo di imparare la memoria, ma voi mi perdonerete perché è così. Allora, grazie. Allora, accendendo un telegiornale qualsiasi, quello che ci aspetta è una faccia che assomiglia sempre di più a un modello o una modella, che ci saluta, dice buonasera e per esempio dice, c'è di nuovo uno scontro sul decreto legge Boccelli, detto legge Brodo. Domani le votazioni, il Premier chiede compattezza. Dopodiché parte un servizio che ripete esattamente le stesse identiche parole che ha detto lo speaker, con in più le interviste cosiddette che dicono, il Premier ha detto, efficace per la compattezza che è. Il portavoce dei DS dichiara, un momento difficile ma non dobbiamo drammatizzare. La Margherita un passo avanti senza strappi traumatici. Per rifondazione si tratta di una battaglia sulle teste dei cetigiani deboliti. Per i verdi un'ennesima vergogna. Per l'Italia dei valori è necessario andare in fondo. Per i socialisti un'apertura. Per i radicali vergognoso il modo in cui il portavoce di Forza Italia chiede le immediate dimissioni del Premier. Per AN una legge che favorisce i clandestini. Per l'UdEor una trappola. Per la Lega un gesto criminale. Per l'UdC si tratta dell'ennesimo tentativo di bloccare la crescita del Paese. Questo collage surreale di slogan cretini ce lo chiamano informazione pluralista. però non è solo la televisione perché se compri un giornale per capire meglio trovi un bel editoriale indignato di qualcuno a cui per ragioni impenetrabili e comunque non discutibili è riconosciuta l'autorevolezza per indignarsi. Nell'editoriale si dice che abbiamo toccato il fondo e che stiamo superando un qualche limite etico che superato ci porterà a catastrofi istituzionali la cui dimensione è incalcolabile pure se hai come chi scrive il metro giusto convalidato sia dalle tendenze europee che dal mercato. Cita a sostegno della sua tesi, la guerra di Sparta, un verso di Catullo e un passo del Corano. Nell'editoriale precedente c'era una battuta di Flaiano, un aneddoto su Churchill e un dato dell'Ocse che ci spiegava che i figli di immigrati pure di seconda generazione tardano a capire il corretto uso della prescatole. Nell'editoriale ancora precedente aveva fatto un brillante paragone tra il caso Welby e Tony Blair esaltando la superiorità del mondo anglosassone evocato dalla lettera Ypsilon in quanto all'abilità di capire quando è il momento di andarsene capacità che questo quel ministro non riesce invece ad emulare. L'editorialista concluderà con amarezza che purtroppo nessuno capisce quanto sia cruciale questo momento storico, quelli dalla sua parte per stupidità, gli altri per malafede. E questa amara conclusione viene subito confermata dal resto della prima pagina del suo stesso giornale che in pieno disaccordo con l'editoriale dà importanza a tutt'altri argomenti. Se il tema dell'editoriale è l'indipendenza dello Stato rispetto alla Chiesa ci sarà una foto a nove colonne di Ratzinger con le dichiarazioni sue e dei suoi ministri. Se l'editoriale si rammarica del basso livello dello scontro politico, degli insulti e delle polemiche sterili, in prima pagina ci saranno insulti e polemiche sterili commissionate dallo stesso direttore del giornale e poi a lato in piccolo ci sarà una notiziola sul fatto che in Iraq sono morte 800 persone o il padre che uccide i figli o viceversa. E poi a lato in basso c'è sempre la notizia leggera, scoperto il gene della stitichezza. Morta l'ultima rammenda calzini di Varsavia o se c'è qualcosa sul duce che è sempre la cosa più divertente. Però se in questo paese davvero ti incaponisci e vuoi capire con che cavolo è sto decreto boccelli detto legge brodo c'è un'altra possibilità. Perché nelle pagine interne c'è sempre l'articolo di uno di quei due o tre giornalisti, giornalisti, perché più di due o tre il giornale non li assume con contratto regolare, con un'autorizzazione a esprimersi quasi liberamente, di quelli che forse un giorno faranno un libro ma sanno già che non diventeranno mai direttori se prima non abbiurano e ripudiano tutti i momenti di lucidità esperiti in gioventù. E poi devono anche sapere cogliere il momento giusto per abbiurare perché se abbiuri troppo tardi poi non sei più merce appetibile. Magari quando sono ancora giovani sarebbe bello che cominciassero a preparare già dei discorsi critici contro la lucidità in sé. Non c'è bisogno ancora di scrivere ma è meglio cominciare a ragionarci. Anche perché questo darebbe un tono più colto alla biura ed è importante finire tra gli abbiuranti colti perché se sei abbiurante di serie B allora tanto vale che continuavi a fare il giornalista giornalista che era un posto più prestigioso. E comunque nonostante questi discorsi così, questi pensieri così rumorosi il giornalista giornalista riesce lo stesso a scrivere l'articolo e a spiegarci il decreto Bocelli detto legge Brodo. Questo articolo c'è scritta la vera verità che di solito è una ricostruzione più o meno prudente degli scambi che sottengono la discussione sulla legge. Per cui al lettore richiesta un po' di attenzione e non è un articolo che possono leggere tutti naturalmente. Ti devi mettere lì, segnarti i nomi, pure leggere ad alta voce è una cosa che può aiutare. Dietro questo c'è quello, dietro quello c'è questo, questo è l'oggetto da ripartire, queste sono le minacce concrete, queste sono le minacce soltanto per fare rumore. Così tu ricostruisci lo schema e ti convinci di avere capito il decreto Bocelli detto legge Brodo. Capisci pure perché si chiama legge Brodo. Tu pensavi che banalmente stesse a significare che si trattava di un decreto anacquato e invece Brodo ancora più banalmente si riferisce al menù della cena che hanno mangiato quella sera quando discutevano hanno cominciato a fare le loro trattative. Ecco questa è l'informazione nel nostro paese. Questo governo aveva promesso, noi avevamo raccolto delle firme in modo meno efficace di quello che avete fatto voi oggi per far passare una riforma della televisione che togliesse il controllo dell'informazione ai politici. Gentiloni aveva promesso di accoglierla, poi in realtà la riforma che ha fatto, che ha proposto è una riforma che non serve quasi a un accidente e comunque non hanno modo e tempo di discuterla. Io penso che sia una cosa importante, vi prego nel momento in cui e se forse questa legge si discuterà di esserci perché l'informazione è la chiave di tutte le altre magagne in una società e solo grazie all'informazione come il blog di Beppe e come quelle altre poche cose che ci sono che noi siamo riusciti a riunirci qui oggi e che riusciremo a cambiare un po' di cose forse nel futuro. Vaffanculo a tutti! Grazie! Grazie Sabina, grazie di essere venuta, grazie. Ciao, grazie per il tuo impegno e quello che fai. Ciao. Ciao, signori! Qualche dato. Secondo la Questura il numero delle persone presenti sono 200. Ora, no, non è vero, si parla tra questa piazza, lì ed intorni, di 200.000 persone. Ora, se alzate il dito con la V così, facciamo una zoomata tutti insieme. Ora vi voglio presentare, l'avete già visto, quello che io vorrei come ministro di grazia e giustizia. Eccolo lì! Marco Travaglio! Sei una pop, sei un rocchettaro ormai. Vieni. Buonasera. Buonasera. Ho paura? Non fate così che ho paura un po' a parlare. Buonasera. Sono contento di parlare insieme ad altri giornalisti, perché i giornalisti non sono una categoria molto popolare. Giustamente rappresento una categoria che è quella dei giornali che non hanno praticamente scritto niente su questa giornata e quindi saranno costretti a inseguire naturalmente nei giorni prossimi perché non si sono accorti di quello che stava succedendo, come spesso accade. Però vi posso assicurare che non siamo tutti così. un esempio era Ferruccio, Massimo è più che un giornalista e tante altre cose. Vorrei ricordare Lirio Abate, che è un giornalista di Palermo, che è sotto minaccia della mafia, per avere scritto il libro I complici con Peter Gomez, dove si fanno i nomi dei complici della mafia. Il fatto che la mafia lo abbia subito individuato non depone molto a favore della categoria, perché vuol dire che molti altri quei nomi non li hanno mai fatti, altrimenti la mafia dovrebbe minacciare tutti e non ce la farebbe nemmeno lei. Si parla molto di legalità, di certezza della pena, di tolleranza zero, se ne è parlato anche oggi e chi non è d'accordo, naturalmente sono tutte cose bellissime. Infatti Previti è stato condannato a sette anni e mezzo e ha fatto quattro giorni e mezzo di carcere. Su sette anni e mezzo, quattro giorni e mezzo. Per liberare lui, che tra l'altro era già libero perché era agli arresti domiciliari, ne hanno liberati circa 50.000 l'anno scorso e sono gli stessi, una mossa anche astuta se ci pensate, per liberarne uno ne mettiamo fuori anche altri 50.000, così non si nota tanto che abbiamo messo fuori lui, era meglio dire mettiamo fuori lui però gli altri almeno li teniamo dentro se ci pensate, ma siamo amministrati da gente molto astuta. Naturalmente se la certezza della pena esistesse, la pena verrebbe scontata in carcere e non in Parlamento e invece purtroppo ci sono persone che scontano la pena in Parlamento. Se le parole avessero un senso, Andreotti non lo chiamerebbero senatore a vita, ma lo chiamerebbero prescritto a vita perché è stato prescritto e non assolto, se la legalità fosse un valore non si intesterebbero strade a Bettino Craxi o al massimo, come ha detto Claudio Sabelli Fioretti, se proprio volete intestategli una tangenziale che almeno ci si ricorda qual era la sua attività. È successo quest'estate un episodio che riguardava l'onorevole Mele. L'onorevole Mele è quel genio che essendo reduce dal family day ha due famiglie naturalmente, due mogli e poi quando va con l'esquillo, due alla volta anche l'esquillo, si è scoperto che quando non era ancora parlamentare ed era solo vice sindaco del suo paese era stato arrestato per concussione perché pigliava le tangenti e poi andava a giocarsene al casino di Monte Carlo. Appena Casini l'ha notato, questo promettente giovanotto, lo ha subito annesso all'Udc e l'ha subito candidato in un posto sicuro nelle liste e l'ha mandato in Parlamento. Appena ha scoperto che andava a puttane l'ha espulso. Quindi la regola è rubate finché volete che c'è posto per voi ma l'importante è che non andate a puttane o almeno se andate a puttane non fatevi beccare. Ecco questa è la lezione che se ne trama. Su Mastella non voglio aggiungere cose perché è già stato abbastanza massaggiato nella giornata di oggi ma vorrei ricordare che a proprio... è vero non lo si massaggia abbastanza, quello è vero ma nessuno ricorda nel libro di Abbate e Gomez che Clemente Mastella come Casini, un talent scout aveva notato un ragazzino a Villabate, provincia di Palermo, molto promettente era presidente del consiglio comunale di Villabate che è stato sciolto per mafia poi hanno ricostituito il consiglio comunale, lui era di nuovo presidente è stato di nuovo sciolto per mafia il consiglio comunale, questo ragazzo si chiamava Francesco Campanella è il braccio destro del boss di Villabate che si chiama Nino Mandalà e poi a tempo perso faceva anche il politico in consiglio comunale, naturalmente nell'Udeur Mastella l'ha voluto premiare, naturalmente perché questo ragazzo meritava un premio e quindi lo ha fatto segretario nazionale dei giovani dell'Udeur io non so se esistano questi giovani dell'Udeur ma il segretario nazionale esiste ed è Campanella Campanella adesso è in galera naturalmente perché è un mafioso e quando si è sposato aveva come testimoni di nozze da una parte Mastella e dall'altra Tutò Cuffaro pensate che matrimonio, in mezzo c'è un mafioso, da una parte il futuro ministro della giustizia e dall'altra parte il futuro governatore di Sicilia recentemente hanno beccato un sindaco di un paesino vicino a Napoli che andava ai 200 all'ora con la macchina l'hanno fermato, hanno cercato di levargli i punti alla patente lui ha detto naturalmente lei non sa chi sono io al polizio e il polizio ha detto no no lo so benissimo chi è lei è il sindaco di quel paese lì eccetera eccetera e lui ha detto riferirò al mio segretario che è anche il ministro della giustizia e l'ha minacciato dopodiché ha detto di che corpo siete quello ha detto siamo dei carabinieri peggio per voi, avevo deciso di costruire una caserma dei carabinieri adesso non la costruisco più questo è un altro esponente del partito del nostro ministro della giustizia e qui mi taccio e qui mi taccio perché Mastella merita rispetto voi sapete che ha subito un vile attentato recentemente stava dormendo sotto coperta nello yacht di Diego della Valle quando proditoriamente un terrorista ha tagliato gli ormeggi allo yacht che è andato alla deriva allora io voglio dire io voglio dire ma bisogna essere proprio stupidi se ci pensate fare un attentato a Mastella nell'unico momento in cui non nuoce perché sta dormendo cioè ma lascialo dormire sperando che duri il più a lungo possibile questo letargo noi invece sono andati a svegliarlo così ha ricominciato a fare danni dico ancora due cose poi vi lascio perché credo che siate provati siete in piedi da qualche ora in questi giorni si parla molto di Rudolf Giuliani Rudolf Giuliani ha una pessima fama perché noi lo conosciamo in Italia soltanto dalla cintola in giù lo conosciamo soltanto come il sindaco di New York che inseguiva i graffitari, gli spaccavetrine, gli imbrattamuri non ci ricordiamo che c'è anche un Giuliani dalla cintola in su che è venuto prima che era procuratore di New York e che collaborava con Giovanni Falcone che ha messo in galera tutti i capi della mafia americani e quando ha finito di mettere in galera tutti i capi della mafia si è dedicato ai reati finanziari e ha messo in galera i capi della borsa di New York se avete visto il film di Michael Douglas, Wall Street, sapete di che cosa parlo si vedono proprio i banchieri che finiscono dentro uno dopo l'altro e in America l'indulto è una parola intraducibile quindi quando li portano dentro vuol dire che ci rimangono i reati finanziari in America sono una cosa seria c'è gente che è stata condannata a 90 anni per Enron in Italia i reati finanziari hanno come pena massima se proprio ti va di sfiga la presidenza del Consiglio quindi è molto diversa la situazione Rudolf Giuliani quando è diventato sindaco era noto per aver arrestato i mafiosi e i banchieri ecco perché poteva rivolgersi agli spaccavetrine credibilmente adesso mi voglio beccare anche qualche fischio perché ne ho abbastanza degli applausi Cofferati avrà tanti difetti ma Cofferati ha cominciato le battaglie sulla legalità non quando è diventato sindaco di Bologna quando era segretario della CGL ha portato 3 milioni di persone in piazza per difendere la legalità nei luoghi di lavoro contro i licenziamenti facili dell'articolo 18 questo non va mai dimenticato perché è un po' diverso dagli altri sindaci che scoprono l'illegalità dei lavavetri mentre fanno entrare nelle loro città Salvatore Ligresti con due condanne perché faccia le sue speculazioni e sto parlando del sindaco di Torino Chiamparino e del sindaco di Firenze Domenici il ministro Amato si candida ad essere il Rudolf Giuliani d'Italia Grillo vi ha già detto da dove arriva non faceva il procuratore di New York Giuliano Amato faceva il braccio destro di Craxi e non aveva mai capito dove si trovava poi c'è un Amatino un Rudi Giuliani piccolo che è un certo assessore Cioni che voi non avete la fortuna di averlo ma i fiorentini ce l'hanno è il capo dei Dallemiani di Firenze il quale all'improvviso dato che la moglie è stata multata è stata insultata da un lavavetri ha fatto una ordinanza per stabilire che chi lava i vetri commette reato il reato qual è? mancata ottemperanza all'ordinanza del sindaco adesso non si capisce bene quali vetri si possano ancora lavare a Firenze perché voi immaginate uno che sta lavando il vetro della sua macchina teoricamente anche lui incorre in questo divieto con la pompa dell'acqua la domenica quindi non si capisce dove stia il reato di uno che lava il vetro naturalmente c'è chi dice ma il lavavetri ti minaccia sì ma quello è il reato di minacce c'è già non c'è bisogno dell'ordinanza ma quello ti riga la macchina è danneggiamento, è già vietato il reato di danneggiamento l'atto di lavare il vetro non può essere reato allora che cosa hanno fatto? hanno detto non si lavano vetri ai semafori tant'è che un assessore leghista di Treviso ha detto noi abbiamo risolto il problema dei lavavetri con le rotonde non ci sono più semafori e quindi quelli come fanno a lavare i vetri? le macchine girano io ho visto però dei lavavetri con i pattini con lo skateboard allora l'ordinanza noi giornalisti siamo abilissimi a farci le pippe se l'ordinanza è destra o sinistra se Cioni è il nuovo Rudolf Giuliani se è fascista o comunista cacciare i lavavetri nessuno si è domandato ma funziona l'ordinanza o non funziona allo scopo che si prefigge vi dico soltanto che la pena per chi viola l'ordine del sindaco di Firenze è tre mesi al massimo di arresto non subito custodia cautelare non prevista dopo il processo quindi tu devi prendere il lavavetri in flagranza di spugnetta mentre è lì che sequestrare la spugnetta e il secchiello portarli nell'ufficio corpo del reato del tribunale che diventerà un hangar perché immaginate quanti sono iniziare le indagini preliminari fare l'udienza preliminare poi il processo di primo grado e intanto bisogna sperare che il lavavetri sia sempre lì sulla panchina davanti al tribunale che aspetta che arrivi la sentenza perché se taglia la corda non lo becchi più non sai dove abita e non sai come si chiama ovviamente il processo va avanti dura dieci anni impiega una decina di giudici pubblici ministeri avvocati cancellieri poliziotti eccetera eccetera alla fine della trafila che cosa succede? sei ancora lì che aspetta gli notifichi la condanna gli dici sono un mese con la condizionale cioè non vai in galera oppure la multa e lui ti dice sono nulla tenente quindi non la paga il risultato è che lo Stato ha speso un'ira di Dio di soldi per fargli il processo alla fine non succede assolutamente nulla qual è l'unico risultato? è che l'assessore Cioni è finito sui giornali per una settimana come il nuovo Rudolf Giuliani e non ha risolto minimamente il problema che si proponeva di risolvere questo è il problema fondamentale allora allora come si risolvono questi problemi? facendo fatica facendo politica facendo delle norme che servano facendo delle politiche sull'immigrazione di integrazione o anche di repressione nei confronti dei clandestini cominciare a identificarli prendere le impronte se è razzismo prendere le impronte a loro prendere le impronte anche agli italiani in modo che le prendano a tutti noi anche il DNA così ciascuno avrà il suo nome e non potrà dare false generalità questo bisogna fare investendo soldi e non finendo sui giornali oppure politiche di integrazione persino Gianfranco Fini aveva fatto una proposta diamo il diritto di voto agli immigrati anche se non sono ancora cittadini alle elezioni comunali la russa spaventato dalle proteste della Lega Nord e della stessa base di AN precisò dicendo l'importante è che l'extracomunitario non abbia condanne e nemmeno processo in corso che è in un paese come la Norvegia una norma perfetta ma in Italia in quale lingua glielo spieghi a un extracomunitario che per avere il privilegio di eleggere un pregiudicato lui deve essere incensurato o no? chiudo chiudo perché partono dai lavavetri? perché partono dagli ambulanti? perché se partissero dall'alto come ha fatto Rudolf Giuliani ovviamente si svuoterebbe il Parlamento si dimezzerebbe la commissione antimafia si svuoterebbe Confindustria si svuoterebbero varie associazioni di categoria di persone molto importanti perché Montezemolo vuole cacciare chi paga il pizzo e non chi paga le tangenti? perché tanto chi paga il pizzo non si sa chi è e quindi non succede assolutamente niente è come Cioni Montezemolo è finito sui giornali ha fatto bella figura a costo assolutamente zero il presidente del comitato di controllo di Mediobanca è Cesare Geronzi Cesare Geronzi ha più processi in tribunale che Capelli in testa è sotto processo per la Parmalat per la Cirio è condannato in primo grado per il fallimento dell'Italcase Bagaglino ed è imputato a palmi per usura questo fa il presidente del comitato di vigilanza di Mediobanca nessuno tranne Di Pietro ha chiesto le sue dimissioni è da quelli che si dovrebbe cominciare con la tolleranza zero se si avesse la possibilità naturalmente di farlo grazie vi voglio dire un'ultima cosa questo che quello che che stiamo facendo oggi non è inutile non è inutile ci sono piccoli segnali di cambiamento a Venosa la Proloco con denaro pubblico ha dato 6.000 euro a Fabrizio Corona per fare la notte bianca 3.000 persone hanno raccolto firme contro e sono andati a contestare questo cialtrone in piazza viva i ragazzi di Venosa Fastweb se non erro ha come testimonia il Valentino Rossi quest'estate dopo che si è scoperto che Valentino Rossi deve 112 milioni di euro al fisco è stata subissata di mail di ragazzi che in pieno agosto hanno scritto dicendo noi cambiamo gestore se voi non togliete Valentino Rossi da testimonia è un altro bel segnale purtroppo noi giornalisti siamo ancora indietro e quindi il Tg1 e il Tg5 che stasera non ci sono hanno regalato a Valentino Rossi il messaggio a reti unificate dal suo caminetto di Londra ecco se Valentino Rossi fosse in America il messaggio a reti unificate lo manderebbe da Sing Sing sperando che qualche televisione glielo trasmetta e credo che non la troverebbe non è inutile quello che stiamo facendo perché Previti quando dopo 15 mesi è stato finalmente cacciato dal Parlamento all'inizio di agosto ha dato un'intervista a un giornale e ha detto sapete chi mi ha cacciato dal Parlamento? Travaglio e Grillo devo dire devo dire che prima che prima mi sentivo molto inutile da quando Previti mi ha dato questo bel riconoscimento mi sento un po' meno inutile vuol dire che bisogna continuare a battere su questi tasti e succedono le cose grazie per il resto speriamo che Cuffaro e Dell'Utri lavino qualche vetro e così vedremo in galera anche loro buona serata ciao grazie grazie ciao grazie ciao dunque le notizie sono di piazze piene pienissime in tutta Italia tutte piene ma è quello che voglio dirvi col cuore non è un punto di arrivo questo qua è solo l'inizio stiamo cominciando così è solo l'inizio vorrei ringraziare due persone del comune di Bologna uno è l'assessore Guglielmi e l'altro è un assessore che è un ex giudice Mancuso tramite loro è stato possibile fare questo volevo anche dirvi una cosa questa manifestazione non vi è costata una lira quindi il vostro comune non ha tirato fuori una lira ha dato la disponibilità della piazza ma la sistemazione dei musei tutta l'attrezzatura e anche dopo la pulizia della piazza la paga il sottoscritto quindi io sono di Genova e ci manca è il minimo è il minimo che posso fare per quello che avete fatto voi per me in 30 anni di lavoro bene ovviamente ovviamente qualche disguido c'è stato per esempio le linee telefoniche molto cariche non abbiamo potuto fare i collegamenti perché cadeva casualmente la linea però siamo riusciti in qualche cosa che rimarrà nella storia e questa Woodstock delle persone per bene è iniziata fa culo grazie c'è una piccola sorpresa che io mi stavo dimenticando ma è una cosa molto molto importante ci sono in Italia ci sono in Italia 60.000 sordi quindi io ho portato queste tre ragazze che faranno tradurranno a gesti quello che è successo stasera per i nostri 60.000 la lingua dei segni quindi mettetevi una vicina all'altra ma no vicini tranquille tu presentati chi siete e che cosa volete comunicare con questo vostro meraviglioso gesto aprite il microfono grazie ti do questo scusate buonasera a tutti e vaffanculo a tutti allora questo è il segno di vaffanculo vaffanculo ecco allora 60.000 persone in Italia non possono accedere all'informazione qualsiasi tipo di informazione vera o falsa che sia noi siamo qui non facciamo parte di nessuna associazione siamo qui per difendere il diritto a usare la lingua dei segni sia per i sordi che per gli udenti che vogliono usarla la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti riconosciuta da parecchi stati dell'Europa e del mondo ma naturalmente non dall'Italia perché vogliamo riconoscere questa lingua perché questo darebbe diritto all'accessibilità a qualsiasi tipo di informazione e soprattutto a un'educazione di pari diritti i bambini sordi non hanno il diritto di accedere alla scuola dell'obbligo fanno parte fanno parte vengono integrati nelle scuole fanno parte delle classe di udenti ma non hanno diritto a un'informazione reale l'handicap della sordità non è un handicap che fa che fa parte scusate sono emozionatissima le persone sorde non si sentono persone handicappate si sentono persone e basta l'handicap sta nel mezzo perché sta nella comunicazione sta in mezzo a sordi e udenti quindi ci vuole uno sforzo da parte di tutti e due per superare questo tipo di handicap altrimenti rimarranno gruppi di sordi e gruppi di udenti che non avranno mai niente a che fare gli uni con gli altri ci sono progetti di legge che aspettano da anni in Parlamento e che non vanno avanti anche grazie alle lotte tra le varie associazioni che dovrebbero tutelare i diritti dei sordi allora io chiedo ai sordi che non sono qui probabilmente però spero che questo messaggio arrivi a tutti di farsi vedere e di non avere vergogna di usare la propria lingua perché ognuno ha diritto di usare la lingua che vuole e che sente propria grazie vaffanculo a tutti siete meravigliose non me l'aspettavo grazie ragazze grazie ciao ci vediamo lì bene finiamo questa serata in compagnia dei nigrita ve l'ho detto prima non è la gruppo al completo un paio non avevano non sono potuti venire perché avevano insomma fumato delle cose no scherzo c'è una sessione dj dei grandi nigrita ciao a tutti grazie grazie ciao è arrivato l'8 settembre il giorno della disbatta nostra questo 8 settembre sarà il giorno della disbatta loro chi dè chi dè come vaffanculo dè 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 l'8 settembre è la festa della madonna una festa della madonna manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda va in pista ma non decolla le mani in pasta invischiate come dentro la colla questa è l'ennesima balla ma ormai non state più a galla qui con la piccola barca perché lo scappa una palla ormai non c'è più rimedio serve un pacifico assedio questo è un invito alzate tutti il dito medio non c'è più rimedio